Sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo Ci siamo Hai giocato un po' a Final Fantasy? No, non ieri e l'altro io Cioè non dall'ultima volta che ne abbiamo parlato Sono ancora nella parte di flashback iniziale Che ci sta Anche abbastanza secondo me interessante Come ti introduce alle meccaniche di gioco Non c'è male Non era sicuramente un problema Non mi ha fatto impazzire la scelta Di farla a modo di flashback con loro Non mi è proprio piaciuto a livello narrativo Però sai C'è anche delle cose Anche sfiziose pure proprio per il fatto flashback Quando per esempio Lui va nella stanza di Tifa E Tifa dice E loro parlano Cioè si sentono in dialo Le voci fuori campo Perché lui sta raccontando E lei che fa Ah ma quindi sei andata anche in casa mia E tu puoi pure scegliere di rispondere Per vedere Tipo lui apre l'armato Dice Ma veramente hai curiosato nelle mie robe? Dice Tifa E tu puoi rispondere sì o no E quindi magari no Lui dice No no L'armato non l'ho aperto Un giardone È sfiziosa come cosa Che decidi il ricordo In quel modo Non è male come roba Però sì Ho capito che la parte che non ti piace È più avanti Però adesso Secondo me Come domani poi parte E vada da Versa Secondo me Questa è rimandata a dopo Ma anche perché Il gioco è solo PS5 Non è che posso giocarlo Su PS4 Vedi il cross gen Per me è figo Quando tu accetti Che lo giochi Bene Come su un PC Inferito Anche Steam Deck Cioè Steam Deck accetti Che lo giochi a 7 Bravissimo Minchia Lì è peggio che su PS4 Probabilmente No Cioè nel senso È inferiore proprio Anzi la risoluzione è bassissima Però Però ci sta bene Con lo schermino Esatto Esatto Questo Mi sembra un ottimo compromesso Per avere Tipo Devo fare un viaggio in treno Oggi Minchia Mi metto su Vampire Survivor Mi sfascio proprio No Vampire Survivor Scusa Deep Rock Galactic Survivor Mi ci sfascio proprio Cioè è proprio l'idea di gioco Da tossico Che il viaggio dello scordi Infatti è ottimo Infatti la roba Sono possibilità in più Che sono comunque una figata Le console Le macchine Meno potenti Che però ti possono servire per altro O magari anche semplicemente Possono costare meno Nel caso di Steam Deck Non è meno Ma è portatile Quindi è un altro tipo di vantaggio Però potrebbe essere Invece che non è portatile Ma costa meno Perché è più brutta Grazie Se lo paragoni Ha un PC Non è facile fare un PC Da 500 euro Completo Cioè Con monitor Arriva e c'è 500 euro Completo No monitor Lascia stare Perché magari tu Ce l'hai Come il televisore No no Però se non ce l'hai Voglio giocare su PC Fai un paragone Con macchina completa Alla fine Chiaro che è Di compromesso Non è Il monitor è piccolo Però alla fine Se hai un PC In cui puoi giocare È una città Che non è neanche Anche curato Nel senso che si sa Che esiste Quindi anche un po' Console Da questo punto di vista Cioè nel senso I giochi Li pensi Per farli Su Su quella Macchina Sì è figo È figo il concetto Di Scalabilità Dell'hardware Per me È proprio importante Hai chiaramente Un PC Stato dentro Quellex sarebbe fierissimo Di queste affermazioni No Sono proprio Perché Quellex Non interessa La scalabilità Dell'hardware Interessa All'hardware Il migliore possibile Esattamente Quindi che è la roba Peggiore per me Invece Che non ha nessun Tipo di senso No Invece per me È bello Proprio il Il fatto A scalare È proprio Lorenzo Vi fa notare il titolo Che io però Non me ne ero neanche accorto Eh Ma Quellex Cioè eravamo messi d'accordo Per una live Su Forbidden West Sì Ma ci siamo dimenticati Tutte e due Secondo me Della live proprio Sì Vediamo quando aveva detto Perché sarà già passato Il giorno No Sì Ma lui sta sulla nera Mi sembra di aver visto Su Instagram Lunedì Era lunedì Ah sei disgustoso Lunedì Anche Quellex Lunedì era anche festa Stavo a casa Finalmente mi sarei visto Una live Sì sì Infatti Si è stato anche figo Ma va a cagare Per parlare di Horizon Forbidden West Di Vabbè adesso lo chiamerai Per Top Spin Dai Per Top Spin Sì No manca Horizon Forbidden West Ancora no Cioè comunque Finché esiste Esiste Se te lo ricordi Dicevo Lorenzo Mi ha fatto notare il titolo Di questa live Non è voluto Non capisco il senso No Parli sempre di Souls Ah ok Tu parli sempre Solo di Souls Hai parlato recentemente Di Souls Ma hai fatto vedere Ma non è vero mai Ti ho fatto vedere Un'immagine in cui c'era una tomba Con scritto Souls Forse non hai capito No l'argomento c'è L'argomento c'è Quindi se ne hai parlato Quindi sempre su Magari male Però ne hai parlato Quindi In realtà era che L'intelligenza artificiale Non è riuscita a farvi La protagonista di Stellar Blade E quindi ho reinventato Fare la scritta Souls Like Non so se avevi notato Eh sì sì Ce l'hai detto No alcune Alcune le aveva fatte meglio Però secondo me Quando quelle se le fa In quattro terzi Quadrate E io devo fare poi La cattura Per farci i 16 noni Per usarla Quando vado a tagliare A volte non si capiscono Certi elementi No ma la scritta Proprio c'ha delle lettere Eh però Ho dovuto usare Una con la scritta di merda Che però si capiva Sì sì Però questa è folle Nell'intelligenza artificiale Non sai scrivere Cioè questa roba è folle È la cosa che mi sta Intensando di più Perché poi gli scrivi quello E lui invece La sbaglia Però è Migliorare Sì però Sì sì Sicuramente Però Non riesco a capire In che modo Probabilmente Se gli dai un comando Più tecnico Più dritto Più preciso Non posso neanche Escludere Cioè io veramente Gli metto A me è allucinante Quello che fanno Con delle frasi Di butta della A me stupisce Quanto è clamorosa Al contrario Però probabilmente Ci sono delle stringhe In cui gli dicono Guarda Per me Complessivamente Perciò Dico La scritta Potrebbe essere facile Potrebbe essere una roba Però evidentemente Non c'è proprio questa parte Lui la disegna Capito E quindi Nel disegnarla La interpreta Potrebbe essere Oppure potrebbe essere Guarda Devi scriverla Esattamente così Con un comando E lui lo fa Cioè che non deve Svariare da quella roba Non deve divertirsi Sì potrebbe essere Che quella lì Per lui Era lì più Sì sì esatto Ne metto tre Perché no È più bello Come disegno Gauci ha rinnovato L'abbonamento con Prime Per un totale di 44 mesi Entro giusto un attimo Per celebrare Il mese di abbonamento Poi mi godrò La puntata Indifferita Stasera Buona visione Stasera Mi perdoniamo Gauci Però Grazie per il supporto Un abbraccio digitale Indifferita A questo punto Stasera Allora l'abbraccio Stasera Stasera Esatto Arriverà stasera Stasera Sì perché il titolo Promette bene In termini di insulti Da parte Lì avevo letto Comunque La fine Comunque no Non era Era perché mi sono Veramente stupito Che Stellar Blade Andasse un pochino In quella direzione Da quello che ho capito Che non me l'aspettavo Proprio Io non l'avevo proprio Manco immaginato Aspettavo proprio Un action puro E quindi Quando lo vedi Anche da un po' Dici Allora Non è che St'influenza C'è veramente Un po' Influenza è potente ormai È netto proprio Ma soprattutto Ti dirò di più Sta per iniziare Il vero periodo In cui si vedrà È iniziato Dei giochi Che sono iniziati Quando è proprio Diventato un successo Sì esattamente Io ne ho vista Tanta anche adesso Ma guarda Sai La più grande influenza Non è nelle meccaniche Proprio dei Sortslight La più grande influenza Secondo me È nella riscoperta Della difficoltà In generale In generale Secondo me Si è capito Che c'è un pubblico Che vuole anche La sfida Mentre C'è stato un momento Che secondo me Chi faceva videogiochi Pensava che era Proprio da eliminare Sta componente Per me Andava benissimo Primo per dire Per me è proprio La roba Poi parleremo Di Peppergrinder Perché credo Avrei fatto un boss In condizioni Che cazzo È da Che è Peppergrinder? È il gioco di Devolvere Però direi Sigla Se vogliamo partire Subito Allora sigla 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 Carai Vigente Bentornate E bentornati A un nuovo Vito Iuvarascio Caraibi Vito Caraibi Ciao carissimi Ciao mi dici Caraibi Caraibi Allora Peppergrinder Dicevamo Non me lo ricordavo più L'avevamo già No però L'abbiamo anche parlato Sì sì Perché già neanche Nella ricerca Di Di Youtube Quindi C'era già Eccolo qua Ah sì certo Quello di Chiaro Che scavi Fa Bello Tra l'altro Devolvere Allora avevo provato la demo No l'ho finito Ah l'hai finito Ok Ah beh parliamone subito Bellissimo Vai vai raccomi Allora avevo provato la demo Sì La mia reazione era figo E divertente come si gioca Ma secondo me non ce lo fai Un gioco intero Con solo sta meccanica Quando ho letto Le recensioni I pareri Ho scoperto che durava quattro ore E dico vabbè Hanno fatto una roba da quattro ore Day one per me Quando leggo quattro ore Il gioco esulto Ormai Alzo la coppa Sono proprio contento Troppo il tipo di esperienza Che vuoi E in realtà Non ci hanno fatto neanche quattro ore Con sta meccanica Perché poi prova a fare Un paio di cose Ok Prova a variare Mettendoci un po' di sparatutto E secondo me diventa Un po' più pasticcione Perché invece Quando fai il platform Con la trivella Diciamo Questa roba di scavando È un platform veloce Se ti vuoi cercare le monete Devi pure girare un po' i livelli Però funziona proprio bene È proprio divertente Da giocare Tutti i livelli Sono molto veloci C'hai delle variabili Di difficoltà In giro Cresce un pochino Di difficoltà Senza esagerare Alla fine di ogni mondo Sono quattro Ti trovi pure un boss Che fa Attacchi semplici E leggibili Ma tu c'hai poca vita E quindi devi sbagliare anche poco Cioè con tutti i boss Un minimo sofferto Cioè mi sono dovuto impegnare Però è quel tipo di sofferenza Alla caped Che mi piace Cioè Restarto al volo E ci riprovo Mi diverto a fare Comunque il combattimento Che non dura tanto E per me quella Non è mai sofferenza Se invece mi rifai fare Un pezzo prima di strada È il pazzisco Perdo la testa Ma no io proprio Questo fino al boss finale Questo volevo raccontare Perché tu arrivi al boss finale Che c'ha una prima fase Esattamente come gli altri Leggibile Devi avere la vita Poi se vai nel negozio Puoi portare la vita al massimo Cioè invece di quattro tacche Puoi averne otto Quindi una fase Era veramente una roba Cioè fa Ti impegni Una volta che l'hai capito Però poi c'ha una fase due Che era delirante Improvvisamente Perché tu c'hai Sta roba di sempre Di livellare Ma con tipo delle palle Dei mondi Appesi Con una fisica loro E quindi tu poi Devi agganciarti bene Quindi le possibilità Di sbagliare sono tante Ci ho provato Sette miliardi di tentativi Il gioco Dura cinque ore Ho fatto due ore Su sto boss A un certo punto Vado a cercare Nelle opzioni Se c'era una roba Per facilitarlo C'è un livello di difficoltà E c'era il rallenty Bellissimo Bellissimo come opzione Di facilitazione Che potevi mettere A vari livelli Io l'ho sparuto al massimo Perché ero già pronto A mollarlo Ero già pronto a dire Me lo guardo su youtube Non è per me C'è questo tipo di impegno E lo metto Ma era veramente rallenty C'è proprio In cui tu Devi fare le stesse cose Però hai più possibilità Di utilizzare Mettilo in capped Appunto il rallenty E hai risolto Leggi anche il nemico meglio E quindi Ci ho messo uguale A un miliardo di tentativi Non ve la smettavo Questa parte Era comunque Insopportabile Cioè per farti capire Quanto caglava il cazzo Sto boss Ma i mortacci Però mi sono Mi sono arrivato Quasi a smadonnare Perché poi il rallenty Essendo una roba Che era strana Da capire Perché tu Costa Trivella Poi quando vai Dal basso verso l'altro Giravi in un modo contrario A velocità A velocità normale Diveniva quasi in automatico A rallenty Che ci ragionavi Tendevi a sbagliare di più Questa roba della direzione E quindi Oh Ci ho messo comunque Un sacco Senti ma Il gioco Era È uscito nel 2023 Come ci ricorda Questo primo trailer O poi è uscito da poco No no Il gioco è uscito Venerdì mi pare Ok è uscito adesso È stato rinviato Quindi E PC E Switch Soltanto Esiste? Non ne ho Idea Strano che Devolver Fa solo PC Switch Però Che in questo trailer Però questo trailer È vecchio E parla ancora Di un'uscita del 2023 Mette PC E Switch E potrebbe essere Magari con calma Esce anche per altre cose Oppure no Dipende È un gioco che Secondo me Non hanno capito bene Non hanno capito bene Cosa poterci fare A lungo E quindi Intanto Meglio di farci 70.000 cose uguali Farne poche Fatte bene Cioè Fino Fino Alla Finale Secondo me Erano giocati bene Come ritmo E tutto Ci hanno messo Un po' di cose Un po' sceme C'è tipo una roba Che sei Quello che si è visto Nel trailer Un gozillone Che spacca tutto L'ha l'elemento ludico Lo perdi Quando prendi il fucile Secondo me Funziona anche abbastanza bene Diventa anche là C'è una fase Con un checkpoint Molto lontano Un po' noiosetta Però Diciamo che hai variato Ci stava dentro Insomma La parte più divertente È sicuramente Quella con la tribella Mi mancava un po' di contenuto Exa Perché pure il negozio Non c'è niente Potevano mettere là Degli aiuti Per il gioco No Se tu te prendi Ste tacchette Di vita Che però c'hai La cosa stupida È che tu le porti A Quando arrivi al boss E Siccome Se muori La seconda volta Lui non te la tiene Questa roba che hai fatto Devi riuscire Andare al negozio Rispendere moneta Per comprarti Ste quattro tacche extra E rientrare nel boss E riparte ogni volta La scenetta del boss Quei Un minuto D'animazione buona In cui fanno cazzadini Che non si può saltare Un minuto No Non si può schifare Forse di più di un minuto No No Questo è terribile E quindi Tendi a non farlo Cioè Dici vabbè Allora imparo A farlo con quattro tacche Poi in realtà Sono diventato Più bravo con quattro Quando Quando mi ci sono avvicinato Dico vabbè Vado Questo solo nel boss finale Adesso per forza Con otto ce la faccio E quindi ce l'ho fatta Però c'era la fase due E l'alliva Leva la stessa cosa Cioè La fase due Per portarti le otto tacche Alla fase due Dovevi rifare la fase una Che insomma Era un po' troppo Sinceramente Un po' sbilanciato Con questo senso Però fino a là Se l'era giocata Me l'ho divertita Cioè Ho avuto comunque Un bel ricordo Mi sono divertito Però poteva essere Un po' meno cretino In queste cose E giocarsela Come un gioco Senza A sta grande sfida Invece di arrivare Improvvisamente Da farmelo mollare E se non c'è l'opzione rallent Io lo mollo al finale Se il gioco Mi ci metto a farlo Allora Quanto costa Voto Vito Iuvara E a chi lo consigli Gli ho dato Sette Voto più gettonato Sette Eh capita Sì Era un po' indeciso Tra sei e sette Infatti C'è stato pensando Era un po' Verso il basso L'indecisione Più che verso l'alto Sicuramente Non ho pensato all'otto Costa Quattordici Ottanta Su Steam adesso Però ho voluto Poi premiare Il fatto che sì Alla fine ne sono uscito Comunque che mi sono divertito Anche se avessi mollato Il boss Mi sarei comunque divertito Perché gli altri boss Invece mi sono proprio divertito Nonostante ci abbia messo Comunque tanto Anche per incapacità mia Cioè secondo me Uno bravo Non è impossibile Che qualche boss Si faceva first strike Io un po' meno Però Cioè mi sono divertito Mi divertivo proprio a farlo Era divertente Anche da giocare a livelli Si poteva far durare Un po' di più Di quanto è durata a me Se ti vuoi prendere le monete Lo consiglio A chi vuole Un'esperienza Molto rapida Neanche troppo impegnativa Per gran parte del tempo Piacevole Cioè Che dura il giusto Secondo me Questo è proprio L'esempio Di cosa sbaglia Se questa roba La fai durare 12 ore 12 ore L'hai rovinato Non ce l'ha Non ce ne ha Proprio dentro Così io ne esco Comunque Vabbè però Ho passato 4 ore piacevoli Ma dov'è il problema Forse qualcosa di più Alla fine Guardate lo dico La La steam E quindi no Alla fine Non sono uscito dispiaciuto In nessun modo 5.6 ore Calcola veramente Due ore Però boss finale E di monete extra Io non ci ho manco provato Mi sono preso Quelle che trovavo E amen Non è una roba interessante Per me Non mi diverte Così tanto Neanche nei Mario Devo essere onesto Da fare quella roba Anche se in Mario A volte c'è proprio Del gameplay Forse era anche La parte più interessante Infatti per me Questo Ne parlavo ieri Proprio sulla questione Di Di Caped E giocare in boss A esperto È È un altro È proprio Un altro tipo Di roba Spesso Come funzionavano I livelli Non era solo Il voto diverso Cambia proprio La difficoltà Cioè Quando hai finito il gioco Sblocchi la difficoltà È esperto Puoi rifare tutto È esperto Ma non è tipo I boss hanno Più vita È proprio Che Cioè Che Le cose che succedono Sono un po' diverse E quindi devi Tipo Sparano due robe insieme Delle cose che normalmente fanno Ok Cioè Tipo che ne so Un boss Ti spara una palla di fuoco E fa un raggio Anormale O una o l'altra E tu devi capire Adesso sarà quello O sarà quest'altro È esperto Magari te le fai insieme Quindi devi trovare anche vie di fuga diverse Esattamente Sì 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 È molto diverso No ma non ho mai pensato di farlo Io sto facendo questo Io sto facendo questo Mancano due boss adesso Hai esperto? Sì hai esperto Ancano due boss Bellissimo Quindi proprio innamorato alla fine Totalmente È un gioco fantastico Proprio meraviglioso Per il fatto che dicevi tu che si riprova continuamente Quello è la roba fantastica Posso stare tre ore su un boss E mi sto divertendo Cioè Perché comunque gioco sempre 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 C'è mai quell'attesa Quella roba Signor Good Ha rinnovato l'abbonamento con Prime Per un totale di 15 mesi Grazie Grazie Un abbraccio digitale Signor Good C'è anche Raiden Salutiamo Player Inside Carabin Raiden Non è Midna No c'è chiamato bellezza e Raiden Non può essere Sei Non ho capito Cioè Perché dovrebbe avere un'idea diversa Midna Di una cosa così oggettiva Perché non lo No che è oggettivo Non lo dico di no Però non ce lo direbbe Siccome Proprio perché è oggettivo Non lo so Vabbè Raiden adesso è un altro livello È oltre la bellezza Cioè Raiden ormai Raiden ormai È Connettamente Anche Cioè pure foto Con i capelli arruffati Perché tanto ormai Cioè Siamo a un livello Sai quel livello di bellezza Che è asceso Esatto Altro livello Livello di bellezza Che tu dici Ma ormai in qualunque condizione Non se ne deve più preoccupare Mi ricordo una roba Che mi fece molto ridere Durante un Sanremo Che io seguivo con la Gialappas A un certo punto Passa uno che lavorava con Bocelli Che gli fanno tipo la domanda Vabbè ma con i soldi Va bene Adesso che stai con Bocelli E lui rispose Non me ne devo più preoccupare I soldi non sono più un problema Un problema Esattamente Ed è meraviglioso Sì 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 È così È giusto Infatti è quello che dobbiamo fare anche noi Tra l'altro Vito Con bellezza anche noi siamo a posto E quindi non è un problema Ma i soldi invece Lo vogliamo risolvere Io anche come livello di vista Mi sto avvicinando parecchio a Bocelli Quindi diciamo che sono parecchio a parte Madonna Cioè prima stavo facendo una roba Con il cellulare su YouTube Non ci vedo Cioè non lo vedo Eh no vabbè Ma la presbiopia Cioè vedi È la roba piccola No anche miopia Che sta peggiorando Pure la miopia in generale Di brutto Adesso proprio faccio fatica Quando non è illuminato Cioè tendenzialmente Con questi occhiali Se ho una roba ben illuminata Ci vedo Sia da vicino che da lontano Nel senso Se mi togli gli occhiali Io sono quasi Bocelli Non scherzo Però è una roba Non posso Però povero Bocelli Voglio dire Cioè anche In generale Non ci vedi bene Quando sei senza occhiali Non ci vedi bene Non posso dire Paracolo a Bocelli Non lo so Me lo chiedo sempre Probabilmente Quasi c'è Non insulto a Bocelli Però Ragioniamoci Ragioniamoci Non è che non ci vede È non vedente Sì E c'è tutta una categoria Di persone Che è non vedente Che magari Sai La roba Scherzosa Sul fatto Potrebbe non essere Potrebbe Allora La mia cosa è Potrebbe Ok Quindi Puoi dire La stessa cosa Senza questo fatto La posso dire Senza questo fatto La stessa cosa Quindi nel dubbio E nel frattempo Che si arriva a capire Qual è il problema È così grave Cioè mi sento Veramente così Traviato dentro Mi stanno tagliando Le braccia Ma infatti la scuola Fa ridere meno Se togli la parola Bocelli Però Ma non deve Sì però No Non fa ridere Non ci vede un cazzo Sono quasi Bocelli Però fa ridere Meno Però allora quasi Si sottolinea Che si sta ridendo Un po' Di qualcosa Allora Se dici così È netto Che è meglio Di no Secondo me Capito Proprio per quello Perché Ci rifletto Ne parliamo Fra due settimane Ci devo riflettere Per due settimane Benissimo Sull'idea Sono d'accordo Con te Che sia una roba Che deve pregiudicare La battuta In questo caso Ci devo pensare un po' Certo Perché non stai Veramente contento Allora Ti do una Stringa Di roba Cioè Per la tua Riflessione Rifletti proprio Su questo Tu hai detto Che se non faccio Questa battuta Fa meno ridere Però La battuta È esattamente La parte In cui tu stai Prendendo in giro Una roba Eh però no Sai che per me no Cioè perché non sto Prendendo in giro Beh minchia Vabbè comunque Questa Qua vogliono le due settimane Non va a colpire Bocelli Va a colpire Il fatto che Bocelli Va a colpire Le persone non vedenti Cioè che È più Quello che Bocelli Anche sono quasi cieco È la stessa cosa Capito Se dico sono quasi cieco No 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 Stai parlando Non ci vedo Tu c'è una roba Se parli di un livello Di vista Tuo Non è un problema Però se prendi L'esempio Di uno Che ha questa Caratteristica Esatto Esatto Gianduiotto Fa un abbonamento Prime Grande Gianduiotto Un abbraccione digitale Gianduiotto Giandodo E beh Quindi Du Immagino che la pronuncia Volesse essere Quella Non ci vedi proprio Vito Non avevo Non avevo visto la pronuncia inglese Dentro Grande Gianduiotto Grazie Un abbraccione digitale Allora Fantastico che state parlando Di tutt'altro Rispetto agli argomenti Della live Volo Dice Vabbè Ma l'argomento della live È sempre solo Sol Comunque Tra due settimane Vito Segnato l'appuntamento Su Su sta cosa Così Ovviamente Cinque minuti E Invece Bellissima la parte Su Pepper Grinder Ce l'hai Altri Dodici Giochi Così Che hai giocato Adesso No Dodici No Tra l'altro Ieri stavo per ricominciare Pacific Drive Perché adesso che mi sono Alliberato di Final Fantasy Posso ricominciare a giocare Le robe che mi piacciono Volevo cominciare A fare Pacific Drive Ma non mi ricordavo niente Quindi ho solo Cancellato il salvataggio Avevo mezz'ora di tempo Ho detto Non lo faccio stasera Devo ricominciare Pacific Drive Adesso Cioè Non ho un altro Di gioco Quello Non credo Che abbiamo mai parlato Insieme Che è Rock Galactic Survivor Facciamolo Che tu hai detto Che oggi Ti Questi di questo Dico che è droga Funziona molto bene A me Vampire Survivor Piaceva L'ho scoperto Me l'hanno fatto scoprire Veramente all'inizio Però secondo me Gli mancava La roba che piace a me C'è una propria Ma questo è proprio Un Vampire Survivor È proprio un clone Un clone strutturato Però È proprio strutturato Questo c'è una campagna C'avrà dei boss In ali E c'è una roba in più Che è figa Che è questa dello scavare In cui recuperi Gemme che ti potenziano Ma ti permette anche Di gestirti un po' La strada Perché l'order Arriva presto E un po' Si incastra Su questa roba Delle rocce Quindi se scavi In un certo modo Comunque ti permette anche Di cambiare la tua direzione Funziona in modo Molto diverso Il livello Perché tu entri dentro C'hai un momento In cui quasi Non arrivano i nemici In cui scavi un po' Cominciano a levare i nemici Vedi quella barra in alto Quella gialla in alto Sì Quella segnala Le varie fasi del livello Che dura pochi minuti A un certo punto Arrivano i nemici Poi arriva l'orda Quando è arrivata l'orda Dopo un po' Arriva un nemico elite Quando è battuto l'elite C'hai 30 secondi Per andartene Nella navicella di fuga Ok Se non ci arrivi Hai perso il livello Ok Cioè hai perso tutta la partita Non al livello Cioè ricominci da capo E ti porti a casa Un po' di esperienza E un roguelite Ah hai perso tutta la partita Ah ok Tu devi questi livelli Devi finire Cioè Tipo sei al settimo Di questi livelli Ricominci comunque da capo Eh non lo so Perché io ho fatto Sono arrivato una volta sola Al terzo del primo Mediamente di partenza È abbastanza complesso Cioè non te la porti A casa facile Non ci ho giocato Un migliore Perché se ricominci il livello È tranquillo Cioè No no Tu comunque ricominci all'inizio De 3 Poi vediamo Insomma non lo so Però penso che di sì Non credo che ti rifaccia fare Tutto Ok ok Quindi è abbastanza proprio Vampire Survivor Sì sì Ha solo una struttura da gioco Una campagna E c'è la roba di scavare E c'è la roba di scavare in più Poi arriva un upgrade Non hai quella sensazione Di vampire Di slot machine continua È un po' più lento Con passato Come il ritmo Però secondo me È proprio più bello Da giocare per questa roba Ah c'è dentro Bigini C'è tra l'altro L'ha comprato Vedendolo E c'è tipo intossicato Ma pure io C'è una grandissima voglia Bellissimo A me è piaciuto Non l'avevo proprio cagato Perché tra l'altro Mi ero convinto Tra l'altro Vedi questi poteri Ancora non li ho presi Non bellissimo Vabbè questa è proprio Quella roba là È quella roba Però che cambia il ritmo Perché per esempio In vampire survival Tu uccidi molto i nemici Che c'hai vicino E ti vai a prendere Subito le gemme Qua devi scappare Un po' di più Quindi il giro Che devi fare Non è Ammazzo i nemici Mi prendo la roba Ma è ammazzo Mentre scappo E poi ci torno Quindi devi giocartela Anche in un modo Un po' diverso Forse dipende anche Dalle fasi Perché vampire survival All'inizio un po' pure Devi fare così Poi dopo diventa Che ti metti pure Fermo là E Certo Sei forte Ti distruggi Bello No però qua Devi scavare Ovviamente le rocce Poi sono più lente Devi capire cosa scavare Poi Le pietre che prendi Ti danno Della bella progressione Per crescere anche Il personaggio Nella varia run Funziona tutto Secondo me È un clone Pensato bene C'ha un Graficamente C'ha un Piace molto Graficamente D'altro Questi avevano fatto Già un bel gioco Che era Deep Rock Galactic Che è una delle migliori Esperienze cooperative Degli ultimi anni Che poi tendeva un po' A ripetersi pure là Perché aveva delle belle Tipologie di missioni Poi a un certo punto Facei sempre quelle Era costruito Che continuavano A metterci contenuto Intorno E poi ti rompevi A scatole Però era pensato bene Perché ognuno Dei quattro Aveva un potere Che serviva a fare una cosa Dovevi coordinarti Non sono per niente Degli scemi Questi Comunque Mi serve Steam Deck Eh questo è proprio Io lo installato Perché esce No ma non è per No ma non per Giocarci portate Mi serve Una roba Comoda Per Perché esce Troppa roba Solo su PC Prima Su PC Cioè vorrei Veramente una roba Tipo Steam Deck Per Da salotto Però non Stim machine Eh Stim machine Sì Secondo me Se se la giocano bene Nei prossimi anni Seguendo la moda Di queste console Ci arriviamo Sì ci arriviamo Oppure A massa Che questi diventano Più potenti Man mano Va bene Attacca Anche vai a 1080 Insomma Benissimo Devono fare Secondo me Un dock Che porta Queste macchine Da 720 Del portatile A 1080 Secondo me Ci arriviamo Facendo il giro Opposto Perché la loro Idea di Steam Machine Era il PC Adattata alla TV Qua invece devi Ok da PC Ti do il portatile Il portatile Lo facciamo arrivare Alla TV Secondo me Per quanto Sta crescendo Questa Moda Delle console Portatili Da PC Secondo me È il modo Anche per far arrivare Il mondo PC In modo più semplice Nelle case Di tante persone Ovviamente Devi adattarti Te li fai Però Secondo me La Steam Deve fare Il suo cloud Pure questa cosa Ancora che Ancora non è successo È pure un po' strana Secondo me Eh ma loro Che esperienza C'hanno Dovrebbero pagare uno Perché loro Non credo Che abbiano Sti grandi esperienze Con server Cosa Alla fine Quello Conta Sta facendo Il cloud Sì è vero C'hanno Tutti quelli Che Tranne playstation Però Però vedi Playstation Non lo fa Cioè Anche se Insomma A modo suo Però comunque Lo fa Anzi No no Lo fa Però sei Redmina Del mercato E sei andato A pagare uno Sì Loro Se erano appoggiati Non mi ricordo A mai A gaikai E online Le hanno comprati No I server Non credo Che usino Usano La tipologia Di servizio Di online Ma i server Credo che sia Addirittura Microsoft Adesso Avevano fatto L'accordo Te ricordo Un po' di tempo fa Sì Quindi certo Potrebbe essere E come no Per forza Credo sia In più Importante Microsoft Amazon Google Quelli Di comprare I server Per forza Però Gli devi dare soldi Che a loro Non gli serve Però ci arriveremo Secondo me Questo sarà Probabilmente In futuro Avremo dei servizi Dico cose Che tecnologicamente Non so Se siano fattibili Ma che me le immagino io Saremo noi Che useremo Pagheremo un servizio Per mettere la nostra roba In quel modo Più che uno Che paga i server Come fa Invidia Geforce Ma spesso Fammi capire Mi piace questo Mi immagino Che pagheremo Un servizio Che a Cioè noi utenti Esatto Che fa appoggiare La nostra roba A un server Ah Non lo so Sai Questo mi sembra Più vecchio Di Di come Perché dropbox Questo è dropbox Eh Io la sono immaginata così Un dropbox In cui metto Il mio steam Però lo pago E quindi è una roba Interessante Però Ci saremmo già arrivati Proprio come evoluzione Di dropbox O anche Degli spazi Da one drive Drive di google Eccetera Io credo Che sia ancora Un po' complesso Da realizzare Per quanto Dovrebbero fartelo pagare Se lo paghi singolarmente Cioè Deve crescere Di più Forse Però L'idea Geforce now Non mi sembra Proprio una roba Che la gente Capirà Cioè Se Stadia Nella loro testa Era troppo Pagare in cloud Un gioco uguale A quanto lo pagavi Fisico Pensasi Devi convincere A dire Guarda Il gioco Te lo devi comprare E lo paghi uguale In più Ci devi aggiungere Dei soldi Di un altro servizio Cioè Nel pass C'hai il pass C'hai tutto insieme Secondo me Il pubblico Per me Quello è il modello Più semplice Il pass Eh però Invidia L'hai buttata fuori Invidia è una di quelli Che secondo me Potenzialmente È forte Cioè Invidia Vende il servizio Non credo Che si metta a fare Un pass Lei A meno che Non si vada La mente Va da Valve E gli dice Guarda Tu mettici La libreria Io ci metto Però Minchia Ma se io sono Valve Ma non mi metto A fare una cosa Nella vita In più Di quello Che sto facendo Adesso Perché Secondo me È inquantificabile Quanti soldi Veri Stanno facendo loro Io vendo le carte Sai che quando Giochi su pc Ti sblocca delle carte Che tu vendi E loro Su ogni Transazione Si prendono La percentuale Quindi Lascia perdere Tutti i soldi Dei giochi Ma su queste carte Del cazzo Che uno È disposto A pagare Cioè Loro Si prendono D'ottocentesimi E quindi Anche sul niente Loro stanno Facendo soldi Oltre a Quanto Stanno vendendo Su questa Piattaforma Perché la roba Più facile Che mi verrebbe In mente È Minchia Ma croccate Un pass Anche voi Un pass Diverso Di giochi india L'humble bundle Magari Non vai a prendere Manco roba grossa Magari ci metti Tanti giochi Meno importanti Diventa una roba A pezzo Basso A 5 euro Ci metto dentro Un pass Con mille giochi Del cazzo Che la gente Non compra Ma Dente curiosa Non te lo vai a prendere Si 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 Magari ogni tanto Ci metti Qualcosina Di interessante Sì ma magari A 5 euro O mille giochi Ci metti 10.000 simulatori Di quelli che gioco io E butto dentro Cioè ma È una roba che comunque Gli li daresti 5 euro Per provare cose Che ti porta Ok mi è piaciuto E mi compro anche il gioco Tu lo compro su Steam Ma chi vale i soldi Avea Anche questo Ma è loro Secondo me Ma sai che c'è Stavo bene così Ma che Sì loro Secondo me Stanno bene Di sicuro Cioè per adesso Non c'è bisogno Di Di niente Infatti molti desideri Sono Desideri Da utente I miei Io in questi giorni Sto giocando Ghost of Tsushima Versione PS5 In cloud Su PS5 Dice Gogul Devo dire che È indistinguibile Dal gioco in locale Sia per qualità video Che per qualità Dell'input Anche superiore A GeForce Now C'è da dire Che io ho La gigabit reale C'è una domanda Gogul Perché Stai facendo questa cosa Cioè perché Non Non hai installato Ghost of Tsushima Giusto per provare Per vedere com'è Perché io mi immagino Cioè chi è che dovrebbe Giocare A 1080 poi Ma avete detto L'altra volta Vero? Eh sì A 1080 No forse lo streaming Da PS5 Su PS5 Forse si può anche pure Alzare la risoluzione Può essere Sì Può essere che si possa Alzare pure la risoluzione Oh grazie Sailor Luna Unicorn Per il ride Grazie 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 Abbiamo Chiacchierato la settimana Scorsa Con Luna Nell'ultimo episodio Di lag Stasera torna lag Alle 21 e 30 Mercoledì Ne approfitto per Ricordare questa cosa In anticipo Perché domani Sono in viaggio E quindi Domani non poteva esserci C'è Stasera Lag E invece Per quanto riguarda Sailor Luna Unicorn Che ringraziamo Per il ride Linkiamo anche Il suo canale Così insomma Potete andare A curiosare Dalle sue parti Anche a sostenere Perché comunque Insomma Ci sta anche Di Sostenere Le persone Che ci piacciono Lord of the kind Per esempio Regala Un abbo Sostiene Questo canale Ma facendo Questa roba Bellissima Di regalare L'abbonamento Proprio a Luna Grazie Lord Grazie per il supporto Grazie mille Grazie mille Invece Diablo Me lo banni Per favore Colone Chi è? Diablo Che ti ha detto Che ti ha detto Che ti ha detto Ne approfitto Per dire a Vito Che Fastweb Mi ha alzato L'upload Da 300 megabit A 1 gigabit Quindi ora Ho una 2,5 gigabit In download E 1 gigabit In upload So che non ci dormiva La notte Non ci dormivano La notte Bellissima Questa cosa Diablo Com'è successo Questo fatto Mi ha chiamati Come fa Fastweb Ti chiama e ti dice Guarda che ti alziamo la banda A me l'ha fatto Voglio anch'io L'upload a 1 gigabit Importante So fatto Solo se lo banni Solo se banniamo Diablo 82 Diablo mi dispiace Perché la scusa C'è sta regola È uguale a quella Di Bocelli Di prima Lui lo fa Per ferire I miei sentimenti E quindi Ragioniamo Ragioniamo Cioè tra due settimane Stai all'occhio Diablo Che potresti essere Bannato Tra due settimane Attenzione È una roba importante E sta cosa Ah non ti erano neanche chiamato Ah no Cioè l'hanno fatta e basta Infatti sai che sto facendo Sono andando a controllare Non sia mai Eh potrebbe pure essere In diretta Qualche problema live Potrebbe esattelo Sì no In realtà no Nel download Nessun problema Attenzione Vito Attenzione Attenzione 2 giga Ti posso confermare Che l'upload È stato alzato A un gigabit A 890 890 Ti confermo questa cosa Stiamo scoprendo adesso Grazie Diablo Per aver segnato Questa cosa Grazie Diablo Ecco qua Vedi Allora Sì eppure io C'ho la 2,5 gigabit Da tre anni Mai sfruttata Perché non ho niente Per andare a 2,5 Quindi sfrutto un gigabit Ma adesso L'upload Va a un gigabit Ma questa è una roba Di civiltà Meravigliosa Abbiamo l'upload Anche io Ho avuto Anche io Si sono alzato Vai vediamo Non cade niente Mi hai detto No no Non succede niente Io non credo Però una delle telefonate Più belle della mia vita Sarò la più bella È Fasto Perché mi chiama Dopo che Tim Mi aveva detto Non potrai mai andare Con la linea di casa Più di 8 mega Mi chiama Fasto E mi fa Guarda ti alziamo Da 8 a 35 mega Bella telefonata È questa Più bella di sempre E dopo quella Da 35 a 120 No ero più pronto Perché lì ero Proprio rassegnato Che non sarei potuto andare Di più Allora raccontaci in diretta Il tuo speed Allora stiamo sui 100 mega Quindi il suo L'upload sarà 100 a sto punto A sua volta Non mi ricordo Qual era Bello però Oh l'upload a un gigabit È una roba figa Cioè bellissimo L'upload è a 20 18 8 Quindi è come Qui Va 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 Allora adesso siamo tornati Praticamente In una situazione Complice anche il fatto Che non posso sfruttare I 2,5 Quindi è un gigabit Anche in download Siamo tornati Alla situazione In cui All'inizio Proprio della fibra Di Fastweb Perché è stata la prima Azienda in Italia A fare la fibra Nei primi anni 2000 A Milano C'erano 10 megabit Era una roba Meravigliosa Clamorosa Ed era 10 megabit In download E in upload Non c'era La roba Asincrona Della ADSL Appunto Con la fibra C'era sto fatto Poi quando hanno aumentato Le velocità della fibra Tipo a 100 megabit Upload sempre a 10 Tenevano sta cosa Di limitarti L'upload A cui adesso Stanno pensando Molto meno Cioè non c'è più Sto problema Stanno cavi più grandi Che non vanno Eh però Limitavano solo L'upload All'inizio Secondo me Era pure una questione Di non dovete Trasmettere voi le cose C'era pure Sto fatto un po' Politico Dobbiamo dare potere Di upload Alla gente Secondo me Un po' C'era pure questo Vabbè Comunque Diablo Ti banniamo Tra due settimane Però Grazie per Grazie Grazie per La comunicazione Assolutamente Ringrazio proprio Perché mi serviva Questa informazione Eh Vabbè Vito Ma tu lo sai Che se ti sposti Tipo un po' Di Che ne so Di due chilometri Più verso il centro Di Roma Sicuramente Guarda Non sono sicuro Che questo dato Sia vero Sia vero Però La geggetto Che serve La fibra È tipo Al civico Di fronte al mio Ecco Appunto Però Credo Non sia attivato Quindi che nessuno Possa comunque Attivarci la fibra Però C'è lì c'è Eh Però Dalla così Piano piano Mi accontento Dei piccoli progressi Della vita Perché veramente C'è stato un momento In cui mi avevano detto Che non sarei mai Potuto salire Più di Ottomento Che brutta No Come cosa Eh ma Se me lo dicessi oggi Però Perché comunque Non era Non c'erano 6.000 giga ovunque Però Diciamo che Ci sono stati Dei passi avanti Va bene Vediamo Che è qualche Lente Che è migliore Oppure Una roba Tipo Che ne so Wi-Fi Che fa Connessioni diverse In un altro modo Super veloce Aspetto di tutto In futuro No Ma secondo me Normale Diffusione Della fibra Sempre di più E quindi Si arriva Con la team Come adesso Non è facilissimo Cioè servono Veramente interventi statali È difficile Che loro Si possano muovere In questo momento In quel modo Investendo Tanti soldi Sul futuro Se no Sì Se no Come dici tu Anche nuove tecnologie O diciamo Sì Cioè Tipo che ne so La rete Cellulare Eh 6 giga Sì Ci vuole fede Vito Dice Stemassoni Io il portoncino Di fronte al pozzetto Tutti nella via Con la fibra Tranne il sottoscritto Un giorno Chiamarono Anche me Dice Stemassoni Quindi è una storia positiva Vito Quindi a un certo punto Guarda non la vivo Devo essere onesto Non la vivo Come sta grande tragedia 120 mega Faccio quasi tutto Devo solo magari Organizzare delle cose Se c'è urgenza Però Già così si può vivere Secondo me C'è chi sta peggio Comunque anche un gioco grosso Non ci metti Un miliardo di ore A scaricarlo Dunque Magari Certo che già è meglio È una roba Quasi Senza impatto Nella mia vita È difficile Che sto scaricando Una cosa Non vedo bene Netflix C'è già Quello secondo me Impatta Devo dire che mi sono Anche un po' organizzato Cioè So che devo scaricare Una cosa grossa Magari la metto Salgo di corsa Da gara L'ufficio a casa Lo metto in download Così la sera Me lo trovo pronto Magari Oppure faccio scaricare La notte Quando non sto guardando Rob e zinette Un po' devi Adattarti Però In modo veramente limitato Non mi ricordo Una roba Di ok adesso Devo scaricare Questo gioco E non gioco Sì 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 Ormai è meglio Però comunque Vito deve migliorare ancora Oggi pagando anche il doppio Senza pensarci No E non deve essere così Ma deve essere normale Per scaricare un megabyte Ci mettevo una vita Col 56k Dice Eh ce lo ricordiamo Un po' tutti Sì sì No ma erano Doppi problemi Io avevo Io mi ricordo Il con Il modem I modem Pure prima Del 56k No io sono 33 e 6 33 e 6 Io ho avuto Il modem 28 e 8 E 33 e 6 C'era anche quello 14 e 4 Ma non ce l'avevo io E c'era anche Velocità inferiore Però quelli più diffusi Erano 14 e 4 Quando io mi sono Quando ho cominciato A interessarmi 14 e 4 28 e 8 Ho avuto il 28 e 8 Poi il 33 e 6 Che era Oh un po' più figo E poi 56k Era wow 56k Roba fighissima Io ero già 56k Ma mi ricordo Che col 33 e 6 C'era un provider Ad aversa Terribile Che un mio amico Era disperato Per sta cosa E diceva Ma io vorrei Anche Cioè Non chiedo tanto Vorrei scaricare Un mega In un'ora Un megabyte Un megabyte In un'ora Dice Vorrei scaricarlo In un'ora Perché col 33 e 6 Lo dovi Cioè Vai a prendere le misure Adesso Fai i conti Quante Cioè Un megabyte Avresti dovuto scaricare In poco tempo Una canzone Era una ventina di minuti Immaginate il mondo Oggi Voglio sentire una reazione Aspetta 20 minuti Poi l'ascolti Prendi il tuo tempo E che faccio Questi 20 minuti Eh Eh beh Ascolti le altre Che hai già scaricato Cioè Una volta che hai iniziato Vai in circolo Poi ti arrivano È sempre stato un po' così No? Cioè Metti in coda i download E poi a un certo punto Ti arrivano E ce li hai Dovrebbe essere Comunque Bello Dai Bell Bellissima sta roba Adesso Cioè Molto più tranquillo Ma è quello che immaginavamo già Però io Non mi immaginavo già Cioè Mi immaginavo che saremmo arrivati a A una roba Magari un po' più a tappeto E un po' più in fretta Eh Guarda che Se me lo chiedevi qualche anno fa Credevo che saremmo arrivati un po' tutti A queste possibilità È vero che qua È stata proprio tragica Per un sacco di anni Non portavano la DSL Qua da me Eh Quello È la zona precisa L'hanno messo veramente Tanto 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 Io l'ho presa subito Ma gli altri hanno fatto Per dieci anni Non hanno Cabine occupate Non hanno dato a DSL No però tu pensa Vito Cioè All'epoca appunto Dei Dei modem analogici Quindi Fine anni 90 Cioè immagina quello che stiamo facendo adesso Noi siamo collegati Io e te Audio e video Si vede benissimo Cioè pensa agli anni 90 Non c'erano ste risoluzioni Se facciamo questo Tutto via internet Per farlo vedere A centinaia di altre persone Che sono collegate A loro volta Cioè sta roba È Questa non si immaginava Neanche così complessa Come No Non potevi neanche Fare un video e streaming Ovviamente Tu fai il video Così La videochiamata Te la immaginavi C'erano le webcam Mi ricordo La webcam Mi ricordo La prima volta Che ho visto usare Una webcam Sempre Esatto Quella roba Tipo che C'è Un frame Ogni Dieci secondi Tipo Era Scrivendo Solo a video Non l'audio Perché comunque Già era tanto Cioè quindi La roba che Ti saluto Così E poi scrivo Allora mi vedi Questa cosa No no Fantastico Cioè è già Stiamo parlando più o meno Dell'online di Switch Oggi Esattamente Più o meno Tranne ovviamente Il fatto che il video Non c'è Non c'è proprio Insopportabile Quella era proprio Mortale Adesso Si è stabilizzato Era successo In tre anni Due volte Che una giornata È andata male Mentre là Era due volte al giorno Qualsiasi cosa Stassi facendo Agli stessi orari No no Terribile Terribile Vuoi vedere un altro Speed test O Basta Chi è Avete rotti i coglioni No Basta Basta Speed test Quindi Allora Deep Rock Galactic Survivor Mi è piaciuto Un sacco Sono Ma una volta È bellino Anche da vedere Mi piace tantissimo Poi a me piace Quella roba di scavare Poi lo fai in automatico Ovviamente Come tutto il resto Però devi gestire Dove andati Questa meccanica Sembra una stupidaggine Cambia tutto Nel contesto Vampire Survivor Non so se si vede dopo Perché tu Quando scappi Puoi sfruttarla Questa cosa No no Ma mi piace Pure le torrette Metti Proprio a terra Non solo intorno a te Proprio a terra Da navale No Comunque È super interessante Sicuramente Mi fa venire tanta voglia E Sono speranzoso Sull'uscita Su console È in early access Quindi probabilmente Per questo Ancora Non è uscito Quindi Quando esce L'1.0 Di solito Vanno su console Sì Si Vediamo Se hanno detto qualcosa Di pro Sì Allerotic Survivor PS5 Vediamo Vediamo un po' Che dicono qua Esce su PS5 Xbox RxS Quando Vediamo se qualcuno Non hanno Officialmente Confermato ancora Però Uno degli sviluppatori Commentando Su reddit Una roba Ha detto Che Che adesso Stanno facendo L'early access Vabbè Comunque Si esce sicuro Se avrà successo Come potrebbe All'1.0 Secondo me Perché no L'hanno L'hanno Già Convertito Un gioco Anche su console Sì Senti A proposito Di questo genere Di console Hai provato Brotato Che è uscito Su Game Pass Ho capito Quale me l'hanno Fatto vedere Però io non ero Un patito Di vampire Del genere Ok avete piaciuto Questo anche un po' Per la meccanica Particolare E' la campagna A me se mi dai Di uno scopo Mi corti dentro Anche più bello Da vedersi Ma poi me l'ha parlato Un amico Ma ha spiegato Che c'era una campagna Dico allora C'ho più voglia Sembra proprio Campagna Giusto Risolvere i miei problemi Con vampire survival Che era Fai gli obiettivi Fondamentalmente Sì Senti Voleone Visto che c'è Un sacco di gente Sì Devo dare una lezione Di vita a tutti Dovremmo anche parlare C'era troppeggini in chat Sì Vogliamo dirlo Che sta facendo Aperto un canale Smetterà a fare live Ah certo Come no Come no Anzi Quando vuole venire Anche a parlarne qua A presentare Quello che Anche adesso Se vuoi Grande retro Quando ti cazzo Gli pare Sì sì Quando ti pare Se vuoi Vieni a fare due chiacchiere A presentarci Questa nuova avventura Raccontandoci Di che vuoi parlare Che cosa vuoi fare A me piace la parte Perché lui un po' L'ha spiegato No La parte in cui dice Mentre sto facendo le cose Vado Quello secondo me È meraviglioso Quello di lavoro È Minchia Fantastica Di cattura Beh perché c'è il videogioco C'è lui che racconta Ci sono le foto Eh no Quello è proprio bello Secondo me Quella roba là È molto bella Grande retro bigini Quando vuoi Lezione di vita Vai Sentiamo Allora L'ho già raccontata altrove Però la racconto anche A questa splendida community Che ricordiamo È un sacco meglio Di quella di Farenz Vabbè Allora A gennaio Ho cominciato a cucinare Quindi ho cominciato anche A fare la differenziata Perché come vivevo prima Non la facevo da solo Cioè È stata la mia madre La facevo là Qua La mettevo insieme Adesso dico Cucino Faccio un po' Mi sono messo a fare La differenziata Però non ne faccio tanta Ovviamente Mi capo un po' di verdure E quindi l'umido Ho cominciato l'8 gennaio Quando ho cominciato la dieta Ho buttato Nell'umido Continua da buttarlo Non puzzava Il set non si riempiva Perché ho comprato La Ferrari Dei set di periciclo Che con l'umido E pericoloso Come cosa 12 litri E quindi era ancora Da gennaio Era a metà E io aspettavo Che si riempissi No Ma è terribile Ma questo è un racconto Terribile Jack Vai 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 No Dico solo Non lo fate ragazzi È sbagliato Perché Perché la puzza È nascosta Ma c'è È incredibilmente Nascono Non puzzava Che sarà Roba incredibile Ma la puzza c'è Quindi quando A un certo punto Mi sono convinto A dire vabbè Buttiamo È stato veramente Traumatico Veramente 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 No ma guarda Che è pericolosissimo Si possono fare Vermi Insetti Rob Le hai trovati I vermi No Vermi Non le ho vissi Che poi ho preso E l'ho buttato Ma la buttarla Però è Minchia Mamma mia Resident Evil 9 Esatto No Blast Mi Proprio si cazzo Cioè Una puzza Mi è rimasta Nelle narici Per otto ore Una roba Veramente disgustosa Mamma mia Cosa incredibile A parte che il sacchetto Se era tipo disintegrato Non me ne erano manca accorto Cioè Perché sopra Stava bene Ma in mezzo Ma ha cominciato a squagliare Giustamente È che è degradabile Eh Però non puzzavo Allone Veramente Non ho manco pensato No e come dici tu La puzza c'è È che non te ne accorgi Magari No magari Era coperta Se no me ne sarei accorto Cioè Aprivo il segchio Allora arriva La puzza di ciò Che schifo Ma non c'era proprio Ricordati Vito Ogni Cioè Io pure La butto Ogni due settimane È già tanto È già tanto No ma è tanto Cioè Meglio una volta A settimana Va Però due settimane È difficile Che succeda Magari D'estate Meglio una volta A settimana Eh Beh Ho detto questa cosa Perché sono Bravo Bravo La conosce Quindi imparate qualcosa Sì sì assolutamente Lezione di vita By Vito Alcuni dicono Che il lubido Ha pronunciato La parola papà Tanto ho fatto Con il risotto L'altro giorno Valone Non lo devo chiamare Risotto Degli amici Si sono offensi Perché non c'è il burro E quindi Che cazzo La gente è pazza Ti rompe i coglioni Su tutto Diciamo Valone Puoi accettare Queste cose Vito Cioè Le devi accettare La roba Uno mi ha rimproverato Perché c'ho il lego Con la polvere E ha detto Che è una mancanza Di rispetto Ma queste invece Sono cazzi tuoi Però Se tu chiami una roba In un modo E uno ti dice Guarda che il risotto Significa questo Si può accettare Ho capito Ma per me il risotto È il riso Riesco a vivere Con l'idea Che sia un riso Ti sto solo raccontando Che ho messo Ma lo pensi tu Ma scusami Allora Se uno viene da te E ti dice Ah ma tu quindi Fai il Mrexot E dici Che cazzo E cosa Il Mrexot Quello che mette i cancelli Tu dici No guarda Si chiama in questo modo Perché so che si chiama così Ti dico che si chiama così Vabbè Vaffanculo Il Mrexot Voglio dire come vuoi Cioè Non ha molto senso Capito Lì però c'è incomprensione Tu qua hai capito Che io ho detto Che ho fatto No Perché io ho detto Mrexot Magari lui ti dice Come si chiama Dici tu Come si chiama il tuo lavoro Come si chiama Il mio lavoro Eh come si chiama Non riesco a trovare un esempio Ma ho capito Il tuo punto Eh no Perché magari tu dici Faccio il Come è Come dici L'azienda Cioè l'attività Che è Come si dice Faccio finestre Di solito Finestre Allora lui dice Vabbè fai Il finestrale Eh si capisce Che cosa fai Però dici No guarda Non si dice proprio così No normalmente Lo dice È quello Non te la devi prendere Cioè è giusto No ci sta Guarda Normalmente questa cosa Si usa per dire Questo Ci vuoi stare Accetto Accetto la precisazione Comunque era Veramente Squisito Oh questo è molto Importante Invece Ringraziamo Che Gespi di Pippa Che ha rinnovato L'abbonamento con Prime Per un totale di 37 mesi Caraibi Che Gespi di Pippa Grazie Un abbraccio digitale Grazie per il supporto Com'era sto Riso risotto Quello che era Che Ce l'abbiamo le immagini Eh stanno Stavano su Instagram Ma Instagram è morto In questo momento E credo per sempre Quindi finisce là Ma veramente No c'è Funziona No al mio no Ah il tuo Di nuovo Cioè ti hanno bloccato L'account Ho bloccato l'account Questa volta non credo Hackerato Che sono bloccato Per motivi Ammèi spiegabili E non proverò neanche A recuperarlo Quindi o è un basta È finita No non c'è proprio voglia No che palle Però sta cosa Ogni volta Meta è impossibile Trattarci Non vado a provare Rompere le palle A nessuno Non ci provo Ho provato solo Un form E' sborda Per la definizione Di risotto Ma sai che credo Che invece sia Per fare al fan Cioè l'unica cosa Che possa aver fatto Di negativo Da meritare un ban Se è mia Se mi ha annagherato L'account E hanno messo il terrorismo Non lo so Perché poi non te lo dice Quindi non lo so No non c'è niente Non si trova il profilo Eh no ma anche a te Te lo dici A te Forse dicono Che arriva sempre la mail Ma io ho contratto Le mail Non c'è Quindi non lo so Vabbè Comunque non c'è Una comunicazione Che ti dicono Entri dentro l'account A te E ti dice Guarda sei stato banato Per questo C'hai 30 giorni Non entri manco tu Il form Che ho provato Che è l'unica cosa Che farò Per provare a contestare Il ban Ti chiede di essere Loggato Tu vai nel form In cui dici Metti nome Cognome E quando tu dici Ok Voglio sapere Perché non posso Entrare nell'account Oppure voglio contestare Lui dice No no Non puoi fare la contestazione Se non sei loggato Questa è Come funziona Meta Di malina di massa Che è una gredinata Da pazzi Di testa Ma poi è proprio sbagliato Il concetto Cioè mi sta bene Che tu blocchi Anche per un algoritmo Che è sbagliato Mi fai entrare Nell'account Esatto E chiarire le cose La roba Errore Per 30 giorni Puoi contestare Clicca qua Punto Finito No che io devo andare in giro Cerca former Basta Non manco I cerchi Se fosse Eh Sparici account Vito Yuvara Ma è grazie a te Allora Sono Capisco perfettamente Il tipo di reazione Secondo me Ci sta pure Sì no Non c'è proprio Ci sta anche Ci sta anche Di dire Ma basta Non lo uso Uso un'altra roba Il band era Sì sì Lo va adesso Cancella anche Facebook Perché ormai li odio Il band era sicuramente Che fanno affatto E' meritato Aggiungo Perché ho scritto Una cosa Alla romana però Perché io ho scritto Che non era rivolta A delle persone Però C'era scritto Mortacci Vos C'era scritto Mortacci Vos Ah ma certo Mi ricordo E' bello Ma quello è meraviglioso Quello non è molto romano Quello l'ho letto Aspetta Può essere Un algoritmo Banna un account Per quello Erano due o tre giochi Esatto E che tutti lo finivano Fatti sempre Mortacci Vos Per me La romana Non ho pensato neanche Che fosse un insulto Per dire A Roma si usa veramente Come si usava Certo Infatti io l'ho ricevuto così O può essere in quel modo Però magari l'algoritmo Può leggerlo in un modo Mi pare strano Che si abbanna Infinito per quello Però Se vai nei miei account Che cos'altro Potrebbe essere scambiato Per la roba Che ti banno C'era niente Quindi o è un errore Oppure è quella E si potessero Lo rifare Comunque è incredibile Che Walo ride Per ogni disgrazia Di Vito Dice Cepard No ma qua non era Per la disgrazia Io qua sono d'accordo Rido Per il post Che Invece Giallù dice Ma io so Che sono anche alcuni Tenti di Trezza Eh potrebbe essere anche Quello perché erano collegati Due account Trezza era collegato A Instagram Infatti sono bloccati Tutti e due Potrebbe essere Uno o l'altro Infatti io parlavo Di un post di Trezza Adesso Amen Si fotte proprio meta Perché per me Non so Tanto mi parlavamo L'altro giorno Mentre stavamo parlando Di questa cosa Dicevo Ho problemi con Instagram Perché non ti dice Neanche quella All'inizio Lui non ti fa vedere E tu sei loggato Ok mi ricordo Che dicevi Che c'erano problemi Però quella Poteva essere una roba Tipo non va In questo Perché non c'è scritto Sei bloccato l'account Cioè tu sei loggato dentro E non vedevi niente Quando mi sono sloggato Ho capito Che c'era un problema Comunicazioni Io non le ho ricevute Poi Non mi ricordo Neanche la mail Associata a Instagram Onestamente Le ho provate tutte Però Cioè io non c'ho un miliardo Di mail C'erano tante Però le ho provate tutte Non c'è Questa comunicazione E basta Tanto non ci lavoro Io il dramma mio E mi immagino Chi ci deve lavorare Cioè se rimani bloccato Con una roba Di quelle Su cui hai costruito Una carriera Mando cazzo vai Cioè Infatti Non è una cosa No Poi la risolvi Quei soldi Se conosce I contatti Non la risolvi Neanche gente famosa Non esiste Per me questa roba Non è legale Non funziona Infatti non va bene Anche a me Fa passare la voglia Di Cioè Fa pensare Vabbè Ma non posso Fa affidamento Su una roba Del genere Però Poi Twitch Per esempio Ce l'hai Un riferimento Probabilmente Quelli più grossi Ce l'hanno Magari tu vai a rompere Le valle A qualcuno Che conosci In qualche modo C'è Google YouTube Guardate che mi hanno Risposto In 48 ore L'altra volta Era più il panico mio Ma c'è stato il form Il meta Che è particolarmente pazzo Da sto punto di vista Mi ha risposto Dopo 40 ore Mi hanno fatto Realmente era Google Era un form Di mille domande Per capire Se era tuo L'account Giustamente Ovviamente Mi hanno chiesto Una roba Che nessuno Si è segnato Di YouTube L'ID Di commerciale Non ce l'ho Ma hanno fatto Mille domande E risposta A 999 Sei tu Però c'era uno Che dopo 48 ore E poi rispondeva Ogni 24 Quindi non era Proprio la roba Più agevole del mondo Parlari con uno Però Per me Per quanto sono grandi È accettabilissimo Questi non esistono Non può essere E siccome Non me ne frega Al cazzo Buone là C'è finita così Sento Ma mi aiuti A interpretare Il messaggio Di MTT BFF Che dice Io una volta Mi sono slogato La caviglia Non è stato piacevole Perché sta prendendo In giro me Che ho detto Slogato Ah Ok Mi sono slogato Infatti ha scritto Slogato Non me ne avevo neanche accorto Ok Sì Grazie Ottimo Era proprio Quello che cercavo Non riuscivo a capire Ok Perfetto Vabbè Comunque Là c'erano Ste verdure Mentre stavo preparando Ed è morto A parte che erano 24 ore passate Eh no Ma il riso Quindi era buono Allora Prima le melanzane A scaldare Perché una volta Ho messo insieme Mi sono accorto Che la melanzana Richiede un po' più di tempo Sì Su una padella Con dell'ore Quindi ho fatto un po' Prima la melanzana Poi ho messo Un po' di peperone giallo Con della cipolla Tritata E le ho messi E le ho messi a scaldare In padella Poi ci ho messo Del vino rosso E quando si asciugavano Ogni tanto Mettevo un po' d'acqua Per comunque Tenerle Un po' A cuocere Nel frattempo Ho bollito Dei sobasmati Semplice L'ho buttato in padella Quando era cotto E ho continuato A cuocerlo Con l'acqua Sempre per tenerlo Un po' Finché Un po' C'è anche un minimo Di risottatura Diciamo Eh diciamolo Volevo però Farlo un po' Bruciacchiato Non mi è riuscita Sta cosa Con l'acqua Così Quando però Si è asciugato E' arrivato Questo mappazzone Che sembrava Un po' Riso coi funghi E visto che è un po' Più denso Consistente Che risotto coi funghi Tendenzialmente Eh Quella roba là Beh il risotto In generale Perché c'ha il burro Nella Nella parte Di mantecatura Con il formaggio Eh là diventa Cioè si fa Sta cosa Dell'amor Questo era abbastanza Denso e pesante Diciamo Come proprio Peso specifico E Oh E però era buono Cioè C'erano tre cose Che mi piacevano Un'onor risotto E una roba L'ho fatta assaggiare Il mio padre E pure Super contento Vabbè Fantastico Ringraziamo Spettinato Che ha rinnovato L'abbonamento Di livello 1 Per un mese Per un totale Di tre mesi Grazie Spettinato Un abbraccio digitale E Ma Condimento Olio dopo Che c'è messo Un po' di Cioè alla fine Basta Queste robe Così come l'hai descritto Solo il vino rosso Diciamo Come Come Sì Ok Quindi niente Cioè proprio Sale Sì sì Sale sì Sale ok Poi Settimana prossima Dovrei invece parlarvi Della kombucha Non è ancora arrivata Ma vi parlo Della kombucha zero Che è la kombucha È una Bibita Fermentata Che dovrebbe Anche far digerire Pare anche Ottima Anche io Ho chiesto un sacco Me l'ha consigliata Un amico Ferruccio Il tè Amico Dell'intestino Eh vedi Ho cercato Un vino Non ho trovato Nessuno Che l'avesse provata Quando l'ho comprata Per dire Lo provo Ho detto a degli amici O alla fine Mi sono deciso Ah no Io la bevo Tutti i giorni È fantastico La puoi anche preparare Da solo Ma è pericolosa Nel senso La devi far fermentare Tu ma fai la muffa E muori Se sbagli E non mi sembra Proprio la persona adatta Visto anche la mia relazione Con lui Questo è un video Di una preparazione E ho deciso Di prenderla Confezionata C'era anche zero Quindi senza zucchero La kombucha Vediamo Vediamo Eh ho preso una roba Che sono poi otto bottiglie Questi diversi La proverò Vister è diventato Ma che fa Quale sarebbe il fatto Cioè che ti fa Ah intanto è buona A me piace un sacco Bere la roba figa Quindi volevo mettere Siccome arriva al caldo Adesso quella è la mia gola La mia gola Non è Devo mangiare di più Ma ne frega niente Mi frega proprio Questa roba di bere Siccome sono ormai Tre mesi senza Red Bull Cazzo Questa roba Voglio trovare Una bibida che mi piace Se mi aiuta anche poi L'intestino Sono stracontento E se lo voglio Una roba buona Io potenzialmente Sono d'accordo Sull'ipset Tipo ieri ho mangiato L'hummus Volone Eh E il hummus Con l'avocado Certo Ed è buono Cazzo Certo Sì Certamente Io avrei picchiato Se la gente veniva da me E mi diceva Mangiamo insieme l'hummus E' capace E partiva un po' Ma perché? Qual era il pregiudizio però? Che è orribile da guardare Sembra Ah beh Di quella roba Del calcinaccio No Del calcestruzzo avanzato Non è una roba per bere E invece Un buono Cazzo Mi è piaciuto Non sa Mi sono fatto due sandwich Ieri così Un buono Spalmato Certo Non ho capito perché Secondo Guacamole No no Quello è guacamole Avocado Perché guacamole? Guacamole Guacamole si fa con l'avocado No no Quello è hummus con l'avocado È hummus poi con A parte l'avocado Ma non è vero che l'hummus è solo di ceci Era tutta un impasto con l'avocado Questo è guacamole però Sembra guacamole adesso Questa roba che stai descrivendo adesso Sembra guacamole Ragazzi no C'era la confezione C'era la confezione E c'era scritto Hummus con avocado Con avocado E quindi con un'aggiunta di avocado Eh Stava l'hummus Non voglio saperlo come si fa l'hummus Non me ne frega niente Ma c'era l'avocado Non è quello che sto dicendo Non ho detto che l'hummus si fa con l'avocado Ho detto che quello è hummus con l'avocado Sì 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 È tipo lo yogurt alla fragola Eh Esatto Ed era veramente 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 squisito Credo di averlo mangiato già una volta l'hummus Mi aveva fatto proprio l'impressione di quelle robe Sai senza sapore Da vegami Mi capita Quando sto insieme ai vegati di mangiare delle robe Che per loro sono fantastici Magari c'è il cibo vero E siamo tutti più felici Questa mi è proprio piaciuta Vabbè ma tipo quali sono per esempio Quali sono queste cose Perché magari Magari tipo per esempio no Le patatine fritte È una roba vegana molto particolarmente buona Non pensi Cioè dipende che roba no La pizza marinara Un'interessa Delle robe buonissime Quello di voi Quando viene qua fanno sempre le Capito? E sono buonissime Che fanno? E tortiglia Secondo che roba È un impasso loro In cui c'è tutta roba vegana Ah sì Non la conosco Il falafel Dice No No però alcune cose non mi piacciono Ma non sono cattive Sono proprio Vabbè Devi mettere qualcosa in corpo Ce lo metto Anche i hamburgerini che compro io A volte sono veramente disgustosi Una volta li ho buttati nel piatto Cioè ho potuto buttare nel secchio Una volta li ho coperti Allora come hamburger vegani Vito Ci sono adesso quelli un po' più costosi Che però sono proprio tipo carne Cioè il gusto e il sapore L'odore anche anche la consistenza Eppure quello che vedi Sembra proprio tipo carne Sono quelli pensati per imitare la carne Sì Io compro proprio delle robe Le robe ai ceci Sì hamburger di melanzane Hamburger di ceci Hamburger di carciofi Di solito sono quinoa Carote Però all'inizio le ho presi E non mi sono dispiaciuti Le ultime due volte Deve aver preso un'altra roba Un'altra roba Certo E là ecco tutta questione Del tipo Ah una roba schifosa E guardagli adesso Per come arrivo affamato Beh dai del cartone Ti dico Sì non è così male E vi ho detto E c'era proprio schifo Hamburger di umido Dice fra vi Quelli potevi Effettivamente voleva essere un animale Che poi potevi tagliare Per quello che era rimasto No blasfemi Dice tutto il cibo vegano Che cerca di replicare la carne È sbagliato come concetto alla base Perché però Cioè qual è il Perché lui dice Non mangi la carne Quindi Però non sono d'accordo No Invece ha quello proprio il senso No Puoi evitare di consumare carne E mangiare una roba Che ti soddisfa Una roba Più o meno E infatti gli hamburger Questi qua Che sanno di carne proprio Sono veramente buoni Ciao Zohar Hamburger di vapore Intendi al vapore? No no Al vapore Vabbè non cercate di capire Zohar Sì è una battuta difficile questa Fai Zohar E fa tutto suo Abbiamo parlato con la moglie Abbiamo capito che lo odia anche lei Quindi Ah ok ok Perfetto Va bene Zohar Va bene Allora diciamo Va bene Zohar Va bene Non ha senso Ah vedi vedi Però la dice Mi è uscita Ma ho capito come doveva essere La terza cosa Dove essere di nuovo Di vapore Non ha senso Processare Un cibo naturale Dice no blasphemy Per farlo sembrare altro Beh non ha senso Però no blasphemy Non sono d'accordo Se qualcuno vuole fare la scelta Come dice Buallone Del veganesimo Ma faccia Perché gli manca Quello Non è solo fare Ma non è solo fare Ma anche proprio gusto Cifizio Ti voglio questo Mi sai Lo assaggio No ma sai cosa Se vogliamo in futuro Essere più sostenibili Certo E vendere Molto senso Questo concetto Alla gente Che invece del problema Se ne fotte Come glielo vendi Dandogli una roba Che ci somiglia di sapone Molto più che con l'idea Ti guardano ammazzare animali Perché Non se lo pongono il problema Non lo capiscono Assolutamente Esatto Quindi il senso C'è Ed è questo Esattamente Bravo anche il saponese Se non mangio carne Per scelta etica Non vuol dire Che non mi piace Il gusto della carne D'accordissimo Al 100% Assolutamente Faticosa Perché punto punti Sull'etica Assolutamente Dipende Dice Zoar Se non mangi carne Per motivi etici Ci sta a mangiare Una cosa che non sia Di carne Ma sa di carne Esatto Ma quelli che ti dicono L'idea di mangiare carne Mi disgusta E poi fanno di tutto Per imitare la cucina Non vegana Vabbè ma magari Mi disgusta Concettualmente Mi disgusta La carne Perché Per quello che è Ma non il sapore Anche lì Ci potrebbe ancora stare Sono d'accordo Credibilmente Molto d'accordo Con Valone oggi Anche se No blasfemi Vito Ci dice I prodotti Vegani ad oggi Non sono sostenibili Proprio come la carne Questa Oppure potrebbe essere Una roba interessante Però Quelli Simil carne Credo che abbia Proprio ragione E allora Forse questo intende Forse intende questo Quel tipo di carne Che provano a imitare Credo che Siera ancora Una roba Però diciamo Che Diciamo che Se si riesce A renderli sostenibili Il senso Ce l'hanno E come Sì Ok Ok Vabbè Ma quindi Vito Per una questione Di dieta Ovviamente Ti capita più spesso Mangiare verdure Roba E quindi C'è C'è A me l'insalatona E mi faccio io La sera Mi sta Di che cosa Mi piace un sacco Di solito È peperone Comodoro Cetriolo E un po' Di cipolla C'è Random Quasi Sì Bellissimo Ci metto Cinque minuti A tagliarmi Ste verdure Io faccio proprio Srisciolini orizzontali Lo tengo in posizione Che fai il padella No no Salata Olio Acevo Peperone crudo Sì Fai il tazzino A me le peperature crude Piaccio Lessate schifo Crude Piacciono tutte Ah cruda proprio C'è No Le taglio a pezzettini Molto piccoli Però Cioè a me piace L'insalata fatta a pezzettini Piccoli E quella per me È proprio buona Quindi sono proprio contento Di mangiare È una roba che ti riente Poi io finisco La camminata la sera Quindi devo rientrare Dei liquidi Mangio in quel momento Quindi mangio Sin salatona Mentre bevo 8 litri d'acqua Arrivo Sto così Sto proprio gonfio E questi quindi Non c'hai fame È fantastico Ottimo Peperone crudo è buono Dicono anche in chat No a me fa impazzire Il peperone è sempre piaciuto Un sacco Più di cotto il peperone Per dire A me il pollo Che i peperoni Non è mai piaciuto Non mi piace il peperone Che mi sporca la carne Non mi piace poi Il peperone crudo Mi fa impazzire Cetriolo mi fa impazzire Da morire Finocchio un po' di meno Però mi piace Non è una roba Interessante Quindi un sacco di verdura Comunque nella tua Attuale Ho provato anche la zucchina Per provare a variare Ma mi ho fatto schifo Sapeva di zucchina E quindi ho detto no Sapeva di zucchina Clamorosamente Mia moglie non ha detto Che mi odia Precisa Zoaro Solo che devo trattare Vito con più affetto Ma per me nessuno dei due Apprezza il mio Tough Love No ma l'ho capito io Che ti odia Zoaro Esatto Ho capito da O è più vera Vito Iovara È una lettura Probabilmente anche giusta Ci aggiungo io Senza nessun motivo Della cosa Melanzana cruda no La melanzana me la faccio Con la mozzarella di bufala Una volta a settimana Faccio quelli che io Chiamo hamburger Ma a te non ti sa bene No no devi cambiare Questo titolo Perché la melanzana Fa il pane Eh panino Panino quindi Panino La melanzana fa il pane Non è un hamburger No L'hamburger È il patti Il cosiddetto Quando dici Vado a mangiare Un McDonald's Dici un hamburger Si intende Panino Dentro l'hamburger Ci può stare Che siccome contiene L'hamburger Tu lo chiami hamburger Quando invece vuoi fare la Come dire La cosa tipo L'hamburger di questo Si intende Il pezzo Il pezzo interno Cioè quelli che compri pure tu Al supermercato Si chiamano hamburger Di ceci No no certo lo so Ma io adesso La tua Esatto Invece l'altra cosa Quello è panino Di Hai messo insieme a quello del risotto Nel sottinsieme di cagazzi alimentari Sì certo Però è quella roba là È sempre la stessa È il finestrale Ricordate il finestrale È un po' Un filino sopra No 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 Però allora Puoi fare quel sondaggio Cioè se vuoi No questa è una roba statistica Perché ovviamente Nessuno ha ragione Su queste cose Quello che dico io è Guarda che nella maggior parte Dei casi Quando si dice quello Si intende questo È proprio solo un fatto Di numeri E di statistiche Tipo Il burger Si intende Il pezzo Cioè la cosa Io faccio i panini Dai i panini Sandwich Sandwich Bello Sandwich di melanzane Sandwich Il nome del sandwich Per me invece Se penso al sandwich Penso proprio un'altra cosa E cioè che cosa Al sandwich Penso al pane tostato Perché non esiste il sandwich Senza pane tostato Tanto mi sto tostando il pane Ma ti rendi conto Quante cazzo di cose faccio Però quello è il toast No? Il sandwich col pane tostato Sembra quasi il toast Vabbè comunque Sì sì Ho capito Vabbè panino Panino Secondo me Si capisce Faccio dei panini Posso se mi ricordo Fare finta di usare la parola panino Solo per farti felice Ma sono hamburger Chat Ci siamo capiti Che intendo hamburger Quando dico panino di melanzane Comunque quella è la tua Quindi che intendo Una cosa Che se la dicessi Sarebbe diversa Da quello che intendo Però è chiaro È chiaro È chiaro Comunque faccio Esattamente Panino di risotto Esattamente Hamburger di risotto E poi l'altro giorno Me la si prepara così Di risotto me la rifaccio domenica Me la rifaccio proprio Sono stato super soddisfatto Cioè è voluto un po' più Mediamente non passo Tutto quel tempo in cucina Però Meritava talmente tanto Che Me la rifaccio No Titolo e videogioco Lo capisco un po' di più Però Sono più dell'idea Che siamo andati avanti L'abbiamo usato tutti È cambiato l'uso della parola E adesso ho un altro Sì Ma quello è anche un fatto diverso Non è che dici Quello è proprio un fatto diverso Quello di base È proprio sbagliato È come se io dicessi Un pomodoro Invece di una melanzana Titolo È proprio sbagliato In realtà È una parte per il tutto Cioè comunque C'è il titolo Cioè tu dici Perché ci sono dei modi In cui l'abbiamo detto No? Che tu puoi dire Tutti Vediamo Facciamo una lista di titoli Usciti nel 2024 Ci sta Poi quando dici Questo titolo Graficamente È fantastico Comincia a diventare È un po' fuorviante Signor Wood Ma farlo davvero il risotto Non volete il risotto Nella Ma signor Wood Io non so neanche Che cos'è un risotto Il risotto non va bene Per la dieta Il risotto è drammatico Il risotto c'è il burro Il burro Ma non voglio saperlo Ma non voglio saperlo però Nella mia vita Non c'è adesso la voglia Di sapere cos'è un risotto Voglio Volevo raccontare A quella persona Cosa avevo fatto E per me Non mi viene una parola Guarda Ieri ho fatto Posso dire Questa cosa qua è Ho fatto un risotto Insieme alle verdure Che avevo messo in padella Cioè così avrei dovuto Questa roba qua è molto meno Cioè si capisce molto di più Di hamburger Di melanzane Eh bravo Perché non è equivoco Non può essere equivoco Eh ha capito Allora non è risotto Sapete che sta cosa di titolo Per indicare l'opera Si faceva anche nella critica letteraria Del novecento Dice Michel Neff Quindi forse Non è proprio una pazzia No no ma non è una pazzia Di noi videogiocatori Michel Neff Assolutamente E anche lì Se esageri Non va bene Anche lì Dici Vediamo i principali titoli Del Usciti tra il 1850 E il 1880 Riferendoti a romanzi E robe Però se poi dici L'autore qui ha fatto Si è veramente sforzato Per fare questo Per rendere questo titolo Qualcosa di straordinario Stai parlando proprio Dell'opera Del romanzo Quindi non ha sé Titolo va bene Quando dici un elenco Di cose Io mi dissocio Per me va bene sempre Basta che ci capiamo Senti Valone Michel Neff Sì abbiamo capito L'ultimo titolo di Calvino E' una roba Che la puoi dire Così L'ultimo titolo Di Calvino E' un fatto Ma se tu vai a dire Nel capitolo Quattro Il capitolo quattro Rende questo Un titolo migliore Di quest'altro E' un po' più pazzo Capito E' uguale E' uguale proprio ai videogiochi E' uguale alla questione videogiochi La stessa identica cosa Scusa Vito Cambiamo argomento Una roba che ho scoperto Leggendo il libro Sulle Olimpie Non c'è tra un cazzo Però è Farsi sapere come le cose Diciamo un'altra roba Certo Sai Che nasce Nelle Olimpia Del cartello blu Ho scritto parcheggio No Avevano sto stadio No Dovevano far mettere le macchine Esatto Dovevano far mettere le macchine Vicino a sto stadio Non sapevano come Hanno detto Usiamo il suo sfondo blu E ci mettiamo una P Per far capire che è un parcheggio Fantastico E poi è diventato il simbolo universale Del parcheggio nel mondo Eh? Quante le cose le salle C'è una curiosità Bella pazza Completamente inutile Per qualche motivo Sopra tutto questo Però è giusto Ho detto Porca miseria Caspira Eccolo qua La P del parcheggio Direttamente da Istock Questa Nasce In quel mondo Alle Olimpiadi Alle Olimpi Olimp Libro Meraviglioso Parliamo anche un po' di altro Visto che non succede niente In mondo videogiochi Sto per dire Ah perché Aspetta Prima però per questo Perché sostieni questa cosa Che non succede niente Sembra un po' A livello proprio di Licenziamento Licenziamenti 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 Disastri Licenziamenti Ho fatto un commentato L'altro giorno Sembrava di doversi Impiccare e lanciarsi Dalla finestra Era tutto disperazione Il mondo è finito Non sappiamo Ma andremo avanti Gente disperata Per il 2024 Beh però A parte questo A parte diciamo Sta roba qua Proprio nell'industria Io parlo di chiacchiera Non di giochi Di chiacchiera Sì no Giochi giochi Però c'è un po' Meno del 2023 Ma era Fanno a fare 6-7 rebirth Non ti è piaciuto E un po' c'è questo problema Vogliamo parlarne Abbiamo parlato qua Abbiamo parlato lunedì sera Che invece piaceva Seva Gamer Visto che Instagram Vanno tarato Forse è meglio Stare attenti Ci sono i poteri fondi No vabbè ma qua Penso si possono dire Che anche Gigor Tra l'altro C'è anche Gigor Che gode del Bun del tuo account Sì l'ho mollato L'ho venduto E' già partito il gioco Quindi alla fine Ci ho buttato 20 euro Eh vedi Ah parliamo pure di questo Il discorso di comprare Non comprare Della vittoria del fisico In questo caso Che è il motivo Per cui ancora Compro fisico Eh insomma Vittoria del fisico Questa io ci vedo La sconfitta Dell'acquisto Preventivo Invece Oddio preventivo Non è Un valore Non è che l'ho comprato Un ordinato 6 mesi prima E che a me non piace Informarmi sui giochi Prima Gli do un'occhiata No però Perché allora Diciamo sì Non dell'acquisto preventivo Dell'acquisto Al day one Quando c'è Un sacco di roba Da giocare No No Cioè questo Lo giocavo dopo 6 mesi Era più o meno uguale Tu parli per un Quanto l'ho pagato Sì Cioè nel senso Giocavi quando era nel plus Invece che tra 6 mesi Direttamente Ieri ti ho sentito Non sono d'accordo Su questa teoria Di gioca solo Era un gioco Che hai detto una cosa Prima che invece Mi trovo molto d'accordo Che secondo me Un po' non si sposa Cioè gioca sempre Quello che ti va di giocare Anche se devi spendere A me quello Mi andava di giocare Cioè Ero Lo attendevo tanto Quindi perché dire Aspetto due anni Posso permetterlo Aspetta Sì 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 Ti spiego bene Cosa intendo io Con quello che ti va di giocare In quel momento Invece tu A Final Fantasy VII Liberti Ci hai pensato da prima Capito E hai detto No me lo compro Perché quando esce Così me lo gioco Invece Questa è una cosa Che necessariamente Non può essere Quello che ti va di giocare In quel momento Però non è andata così Cioè io Ho messo prima L'Hack Dragon Che è stato un errore Nel senso Sapevo che doveva arrivare Final Fantasy Non dovevo prenderlo Che poi l'avrei messo Sicuramente in pausa Ma Final Fantasy Era quello che volevo Giocare di più Cioè l'ho proprio atteso Ma io non attendo I giochi Madonna Sai già cosa Devi giocare Nei prossimi Cioè una lizza di roba In uscita Sì assolutamente Però non è Non è nemmè Condizionato Nel senso Ho mollato una cosa Perché Era proprio perché Volevo giocare quella Avrei dovuto aspettare A iniziare L'Hack Dragon Che era quello Che invece Avevo molti I dubbi Non c'avevo mai Dubbi su questo Io questo Ero convinto Che mi sarebbe Piaciuto come il primo Sì sì No vabbè Ma poi ci sta Assolutamente Esiste la possibilità Che è Che è una roba Ti aspetti Che ti piace E poi non ti piace Mi fosti informato Di più E a me quello Più in sofferenza Che è anche Mi permette E quindi mi sono Che settimane Trovavo Trovavo Attenzione Sto dicendo E ti rispondono Sono arrivata Gag Di storia Un video Funziona Funziona solo in alto Funziona solo in alto Ma perché continuate A non dire Che è questa roba impossibile Se ci vai Più livellato Chiaramente Sei più forte Se hai fatto Mille missioni Prima C'era uno Che stava in città Dice Io ci sono arrivato A livello 28 Qua Ieri A livello 20 È chiaro Che uno bravo Uno che Si era studiato Di più le materie Probabilmente Se la fa A livello 15 Esattamente Come c'è gente Che finisce Giochi from In mutande Non sto dicendo Che era impossibile Da finire Sto dicendo Che richiedeva Un livello di attenzione Già farlo a livello 22 Quando l'ho fatto Per me era troppo Come sbatta Mentale Dovevo stare attento Fare quello Fare quello A me piace giocare Un po' più rilassato Quindi ci sarei arrivato Più volentieri A livello 24 Probabilmente A livello 20 Prendevo tanto danno E dovevo sempre Stare dietro A curare la gente Non riuscivo neanche A crearla Una strategia Banalmente Il livello conta Dice Jeubis No Blast Mi dice no Ragazzi Qua l'ho vista A livello 20 Per me era Blast Mi dice un'altra roba Che se usi analisi Magari non hai bisogno Ma non è vero L'analisi È quella cosa Che ho sempre fatta E non ho risolto il problema Perché analisi Con quel nemico Diceva Usa tuono Ma se io Le barre a TB Le dovevo usare Sempre per curare Perché stavano sempre Senza vita E uno lo bollava Questa è la roba Che succede Secondo me Mi è successo In un paio di momenti Anche in Final Fantasy VII Remake È terribile Quando succede Cioè che tu Non riesci In un combattimento Ti trovi in quella situazione In cui devi solo curare E stai ritardando Questo era fastidioso Perché di tre personaggi E secondo me Gli altri In quel combattimento Non erano troppo intelligenti Il nemico Il nemico Una volta uno lo acchiappava E spesso bollava un altro Quindi Perdevano energie E non facevano niente In quel periodo Era un boss Un po' Scorbutico Da affrontare Quindi se tu Stai sempre a curare C'hai le barre E tra l'altro I punti SP Non erano tantissimi In quella fase A livello 20 Non ce la facevo Cioè semplicemente Non ci stavo dietro A livello 20 Non ce la facevo A livello 22 Non è che sono diventato Il campione di Final Fantasy Primo tentativo Come fa a non contare Ovviamente Allora no Quello che dice Gigor È che per lui Due livelli Sono troppo pochi Se dici dieci livelli Allora Allora sia Paralai è stato Da 20 a 22 Ed è bastato Perché non è che a 20 20 arrivavo All'ultima fase Gigor Nel migliore tentativo A 22 Sono riuscito A organizzare Un po' Una strategia Tutto qua Ma non ho mai parlato Della difficoltà Come di un problema Ho detto Però quando ho battuto A 22 Sto boss Comunque per me È un po' troppo Devo impegnarmi A me Non è che Non ve l'ho mai nascosto Il boss finale Di Pepper Grand L'ho fatta a rallenty Che è la cosa Più umiliante Della mia vita Se penso alla mia vita Da figlio giocatore Il boss a rallenty È stato veramente tanto Cioè Ma è veramente Sai Tu ti immagini Che ti fai un boss Vedendo esattamente Dove arrivare il nemico E comunque perdendo Però non me ne frega Cioè se per me Deve essere piacevole L'idea di andare avanti Volevo vedere un po' Il mondo Volevo vedere quella Che non è il primo problema Il problema più alto In assoluto Ma hai un po' Ti faccio una domanda Hai un po' Rivalutato La tua Il tuo desiderio pure Di giocare a Star Wars Cioè tipo Adesso che esce un altro episodio Di Final Fantasy Ci stai più attento o no? È per forza Eh ok Dopo Final Fantasy 16 Dopo No perché Cioè dice Cosa è che ti dovrebbe piacere? Perché tutte le cose Che descrivi Quelle che Lord Dave The Kind Sottolinea Che è d'accordissimo Ti fa tutti applausi Eccetera Cioè Sono anche una roba Che si è capito Che probabilmente Il grosso Di queste produzioni Non ti può Proprio piacere Allora Ti dirò Wallone No però Perché qua Io non critico Neanche la struttura Dell'open world Che invece a me A volte piace O se posso Farne un po' Andare dritto Non da neanche fastidio Critico Com'è fatta questa Final Fantasy 16 Non mi dà fastidio Come tu No ma non pensavo Più al Allo stile Del gioco Cioè Il tipo di narrativa La caratterizzazione Dei personaggi Questa roba qua È palese Che non ti piace proprio Ed è il grosso È vero Però secondo me Non è neanche Il 100% Della narrazione È una parte Della narrazione Perché poi ci sono Dei momenti In cui si prende Molto sul serio E non va In quella direzione Quindi Se il gioco Mi piace Anche il remake Ce l'aveva Se il gioco Mi piace Per me Posso sopportare Una cosa Che non mi piace Qua il mio problema Grosso Non è stata La narrazione È È stato Dire Non vado avanti Solo per narrazione Se c'è una grossa Parte che non me ne frega Niente Che mi dà anche fastidio Il grosso del problema È l'open world Secondo me l'open world Non è il problema Neanche strutturale Che Lo capisco Non mi piace Narrativamente L'open world Nel videogioco moderno Mi è piaciuto tanto Spider-Man Perché secondo me Riesce a fare Proprio Usando gli stessi strumenti Una roba più intelligente È proprio Come è fatto Che è sbagliato Questo E questo Io sono sicuro Che è sbagliato Sarà sbagliato Anche per chi Oggi è giusto Perché È palesemente Sbagliato Non è una roba Interpretabile A gusti È una roba Che puoi tollerare Non ti critico mai Se mi dici Oh A me piace talmente Tanto tutto il resto Ma che me ne frega Però alcune cose Sono Dai È una roba Che devi aver superato Nella vita Se hai giocato Più di due videogiochi Nella vita Non posso Accettare Che non si veda Oppure sì Se non c'hai la voglia Non c'hai attenzione Però l'ho sentito dire Anche da persone Che invece lo conoscono Che non si capisca Quanto sia stupido Farmi fare Un viaggio rapido A una panchina Per recuperare Gli SP e HP Usando il cuscino È una perdita Di tempo Concettuale Che si può superare Facilmente Invece del cuscino Fammi fare una pozione Recupera SP e HP Che non puoi usare In combattimento La chiami Giovanni E nell'open world Non mi costringe A continuare a fare Sti viaggi rapido Alle panchine 13 secondi A panchina Misurati Per ricaricare SP e HP Cioè poi Se tutto insieme Non te ne frega Perché va bene tutto No Vabbè Ma è ovvio Ma questa roba qua Anche secondo me Non è mai giusta Cioè il fatto di Cioè Quello che probabilmente Tu avverti Quando se ne parla E che c'è Una roba di Giustificare le cose Perché si è appassionati Di cecità E che diventa Anche a me Probabilmente Fastidio a prescindere Anche a me piacesse Tanto Sono stato Molto aggressivo Su sto gioco Perché di solito Vado in protezione Quando capita Perché poi arrivano Mille messaggi Di persone Cominciano a dirti D'altro mi hanno regalato Una tazza fantastica Ieri mi è arrivata Una delle accuse Mentre parlavo Di fare al fantasy Era questa non è La tua coppa Coppa di tè Tazza di tè E ieri mi è arrivata La tazza a casa Con scritto Vito Tazza di tè Cioè è stato bellissimo Come regalo fisico Sì E non so chi Ve l'ha mandata Bellissimo E Sono entrato In protezione E anche quando Ne ho parlato Da solo Cioè ho fatto i giochi Giocando In cui parlo dei giochi Mentre parlavo Di fare al fantasy Sbava Cioè c'avevo La bava Di rabbia addosso Perché poi mi sono arrivati Mille messaggi Di L'hai preso Con pregiudizio Non lo hai capito Non è il tuo genere E io non sto parlando Di quello Non sto dicendo Il combattimento Oppure non sei capace Non sto dicendo quello Se io ti dico Che il logo Word è sbagliato Nei tempi E nella grammatica Non mi puoi rispondere Non l'hai capito E devi dire Perché quei 13 secondi Nella tua vita Non sono importanti Perché Perché in realtà Ne abbiamo visto i giochi E si è giocato In GLPG Lo sai Senoblade Lo puoi criticare In tutti i modi Il combattimento Per me è più figo Questo Ma nell'open world Non si permette mai Di mandarti a ricaricare Finisci il combattimento Da lontani E lui ti dà SPHP Aspetti 2 secondi Ce li hai Perché sei nell'open world Se il gioco Deve essere Farmi giocare In un overworld Farmelo godere Invece quel meccanismo Diventa un fastidio È come se Ho fatto l'esempio Nei Dark Souls Devi riandare Al falò A recuperare il vigore Prima di ogni combattimento Capisci che Sai che palle Ogni volo Fai Però che palle Cioè devi dire Oh bellissimo I Souls Il ciurfo d'erba Il ciurfo d'erba Racconta la storia Tutti i ciurfi d'erba Però che palle Andare Falò No ma non solo È come dire I Souls La telecamera Funziona bene Oppure tipo Eh va bene così Non è vero Se si può fare meglio Oppure il multiplayer Era una figata spaziale Non è vero Cioè Si può fare Secondo me invece Quando guardi un gioco Io sono molto stupito Di come persone adulte Non rie Sono sempre convinte Che il gioco Che hanno davanti È quello perfetto Che non c'è possibilità Di migliorarlo E che quindi Non puoi criticarlo Perché va bene così Sa roba per me Non è accettabile Da persona adulta Perché secondo me Hai provato cose Ne vuoi altre Ci devono stare Delle strutture Che a volte Sono superate A volte te ne sbatti Io sono il primo Ci sono giochi Che a livello di meccaniche Detesto Ma mi piace altro Stiga Cioè Non è quello Che è il contesto È il contesto Che vieni da me A dire Non ne puoi parlare Perché non l'hai capito Perché che devo capire La missione del carrello De Ciocopo Tra l'altro Quando parli con loro Gli dici Oh sta roba fa schifo Sì sì è vero Fa schifo Sta roba fa schifo Le panchine Wallone Eccoci Igor Le panchine Le sblocchi a mano E tu dici La prima volta Premo il tasto Alzo sto palo Della panchina Non ho sentito a Giga Ah bambina Bambina Bambino Non mi ricordo Bambina Ah perché vedo solo Dei capelli al momento La stai nascondendo Adesso è bambina Adesso si vede Adesso inseriamo Gigor Nella situazione Mi piace questo intervento Di Gigor Grande Gigor Gigor Facciamo appugni Gigor No 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 parliamo bene Di Persona 3 D'altro gli ho scritto A Gigor Dei consigli di Persona 3 In realtà Io sono venuto qui Per due motivi C'è una ragione Per sicurare Vito Che continuo a volergli bene Perché anche se Non mi interessa Ed è molto generoso Però sottolinealo Che è una roba Molto generosa Perché ci sarebbero I motivi Per il contrario No no In realtà Secondo me Il problema di Vito È che ha dei problemi Che non giudico Che siano giusti o sbagliati Con determinati modus operandi Di fare videogiochi O comunque Parlando dell'open world Di questi tempi morti Per la panchina Per quello E poi mi citi Xenoblade Dicendo che Xenoblade non si permette Di farti perdere tempo Recuperando Gli HP Però Se non le Soprattutto Prendiamo quelli Che vanno Da il 2 E il 3 Nelle parti iniziali Ti fa perdere Un sacco di tempo Per un singolo combattimento Un singolo combattimento Ti dura Minuti infiniti È per questo Che finito il tuo combattimento Ti ridà tutto quanto Pensa addirittura A tornare indietro A recuperare HPSP Perciò c'è la logica È vero che Ti spiega le meccaniche Però io sono stato Criticissimo Sull'inizio di Xenoblade Tante vere Abbiamo pure parlato E ho detto Come cazzo è possibile Non parliamo del giudizio Dell'inizio No 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 Però Cioè a me è sbagliato Anche quello Capisci No ok Però nel momento in cui Mi dici Xenoblade non si permetterebbe No parlavo solo Del recupero E ho capito Che secondo me Funziona meglio Esatto Però ti sto dicendo Laddove ti Ti imbocca bene Dicendo Ti ridocca PSP Nelle prime 15-20 ore Ti fa perdere 10 minuti Su due Mostri piccolini Sui coniglietti Che per Ucciderne uno Ci metti mezz'ora Ora sto dicendo Mezz'ora Ma sto chiaramente In generale Secondo me sono 20 ore Drammati Mi sembra che abbiamo fatto Stata discussione Sì 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 Ma anche lì Mi volevo in galera Per non aver filato fuori Che sei Lo c'ha 20 ore Che sono da picchiarmi Col basso Tra l'altro Io per questi inizi lenti Ho mollato all'inizio Sia il 2 E il 3 Poi li ho ripresi E li ho finiti Ma Ho capito Ma lo capisco Ma il mio qui Era soltanto un appunto Sul paragone Ma ci sta Invece era solo Perché secondo me Però vedi Adesso Nelle tue critiche Vedo la tua sofferenza In questi aspetti Però non puoi pretendere Che tutti soffrano Come te Allo stesso modo No io mi stupisco Che non soffriatelo Perché Sulla panchina Ma magari Anche il fatto che io Comunque Giocando il GRPG Sono abituato Che quando devi andare Alla locanda Vedi parlare con il tizio E dire Vuoi dormire per mille Perfetto Pensa Vito A Dragon's Dogma 2 Con Dragon's Dogma 2 Ragazzi Io comincio a soffrirlo Tra l'altro Sono a 40 45 ore Che inizio a sentire Un po' Il peso Di alcune Devi giocarci Devi giocarci Ci sto pensando Eh dai 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 Non adesso Spettacolo Spettacolo Però Secondo me Dovrebbero dare fastidio Anche voi Io riesco a immaginarle Questo stesso gioco Non più brutto In cui quella sporcizia La togli La scala Ma è chiaro che se Nel remake Parte 3 Tu queste robe Me le levi Io sono pure felice Ti ringrazio Capito Sapisci Allora Io non dico Che a te deve dare fastidio Dico che se io Dico che mi dà fastidio Non deve venire uno A dirmi Non hai capitolo Però aspetta Però voglio solo Cercare di iniziare Di capire una cosa Perché se tu devi Recuperare HPSQ Te ne vai nelle cacchi Di panchine Quando in ogni fattoria C'è la panchina là Che puoi usarlo Senza il cuscino Sì ma non è Il problema del cuscino Per me è rilevato Il problema è che Mi devi dare una panchina Tanto non ci avevo Neanche pensato sempre Però adesso Però sì Onestamente C'è È proprio una cazzata Di mandarmi là Sarebbe stato più pratico Fuori dal combattimento Di dammi Dicendo qual è Il cuscino Lo veda solo Per rompersi Tutto quello Che è stato costruito Anche in funzione Della modalità difficile In cui Le panchine Ti recuperano solo HP Ah neanche gli ISP Gli ISP Solo i cuscini Va bene Comunque questa roba Ma io capisco Che a uno Non dia Fastidio Esattamente come a me Mi metto a giocare Aerotrack E a me non dà fastidio Mi piace No? Non è così Se uno viene da me E mi dice Oh Aerotrack Non c'ha il sistema Di guida fantanella Io dico Non capisci il cazzo Non ti piace? Non mi azzarderei Nemmeno a dirti Che ho il tuo vitro Eh lo so È palese Che tu stai soffrendo Determinate scelte Di design Stavo soffrendo È morto per me Ma infatti È il motivo Per cui Tu Gigo sei Il peggior giocatore Di RPG Di RPG Preferito della mia vita Infatti Non ho problemi A discutere Poi Mi considero comunque Tutti dei ricogliorini Secondo me C'è di te Attenzione Insulta il padre E sto subito in reazione Sì 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 Esatto Esatto Senti Persona 3 Invece adesso Mi è partita la trama A 25 ore Eh però Mi devi visualizzare Quando mi dici Partita la trama Almeno Il periodo Il mese Eh Ho appena fatto Il secondo esame Porca miseria Non ho sbagliato uno Ho rosicato un botto Vabbè Tanto ne sono ancora Due di esame Puoi recuperare Vabbè La prima era perfetta Ma le recuperi sempre Non è andrà Però no Adesso è Quando hai avuto Il primo colpo di scena Cioè diciamo Che ti hanno spiegato La vera natura Del tartaro Ok Ok E fino adesso Invece quella Era l'unica parte Che mancava un po' Facevi cose Ma nessuno Aveva spiegato niente Adesso sto andando Al mare Diciamo E È partita pure quella E secondo me Fino adesso È tutto giusto Io non riesco a capire Qua giocandolo così Quanto sia merito Del remake E quanto ci fosse Originalmente Ma trovo che Per alcune cose Sia molto più asciutto Del 5 Eppure Perché funziona bene La parte di Rivellare Secondo me Li trovano Esagerate Non può Messo il piede Come facilità Come facilità A livello Norma Si vede Devo dire che L'ultimi due boss Che ho fatto Il tartaro Lo sfasciato I boss Sono quelli che danno Comunque a prescindere Più sull'espazione No Lì me lo sono ritrovato Più al mio livello Eh sì Perché lì Comunque a prescindere Da come sei livellato Comunque la sfida C'è sempre Nei boss Anzi Ne vedrai Nei prossimi C'è sempre poi Quel guizzo Che devi trovare Per capire Anche a volte Come sconfiggiti Perché magari Non è semplicemente Un'immazza C'è esatto Non fargli servire Sogli HP E poi Troverai anche Delle gimmick Particolari Con cui Giostrarti Quindi No Le boss fight Sono eccellenti In generale Comunque l'esperienza Del tartaro Lo ho là Per compensare Probabilmente La mancanza Del level design L'hanno messa Un po' più Agevole Te la fanno Godere Un po' Ti ci fanno divertire Dentro Prima Era molto Non ho proprio patito Il level design L'ho patito più nel 4 Per esempio Dove invece Era un po' Un fastidio Dovevi trovare Mi ricordo vagamente Ma il 4 Un po' era Devo trovare Il momento giusto Per salvare Rischio un po' Di più Qua sei talmente forte Che faccio tutto Mi faccio proprio Parecchie giornate E quindi Tu rispetto al 4 Non puoi salvare All'interno del tartaro Esatto Poi puoi ritornare No nel tartaro Devi riandare giù All'interno All'interno Una cosa Ti faccio una domanda Te lo volevo scrivere E poi mi sono vergognato L'altro giorno Perché vale per tutti e tre persone E' la prima volta Che me lo domando veramente Quando lui ti dice Non puoi adesso Guarda ti avviso Che non fai la progressione Con sto persona No con la persona Con questo personaggio Le robe sociali No quando ci vai Lui dice Guarda sento che sto per rafforzare O guarda che sicuramente Non rafforzerai il tuo legame In quel caso Stai dicendo proprio Di non andarci O stai mettendo le basi Per cui la prossima volta Sallerai il livello Questo Assoluto Ah ok Tra l'altro Un consiglio Un consiglio Non so se lo già Lo applico Oppure no Ogni volta che fai Mi spiace Estromettere così di brutto Allora Questa conversazione Questa roba super tecnica Di persona Comunque Il concetto è che Ogni volta che parli Con una persona Con un personaggio Con cui vuoi aumentare L'affinità Devi avere Nella lista Di due persone Uno dello stesso arcana Di cui lui fa parte In modo che tu E' come se prendessi Più esperienza Dando le risposte giuste A quella persona A volte è possibile In questo modo Fare Un max social link Ok Senza Senza I così Non voglio studiarmelo così Voglio farlo come Persona normale Scelgo con chi Incontrarmi Amen Quello non è Però Cioè Dipende poi Se tu vuoi appunto Ottimizzarlo Vuoi arrivare magari Alla fine Che è terminata storia Oppure no Vabbè Comunque Vado Vado col cuore Questo non è un problema Devo dire Da quel punto di vista Si può giocare anche così Ma anche la mappa Era così nell'originale Cioè ti fa schippare Tutte le camminate a vuoto Nella mappa Però ti muovi per Puntura Hanno giunto Addirittura La possibilità di entrare In ogni single edificio Ogni single E l'originale Potevi entrare velocemente In determinate zone Ma non così specificatamente Qui Voglio andare al tetto Metti tetto sulla mappa Cioè questa roba Questa è del remake Eh Questo è del remake Questo è esattamente Il motivo È la roba che amo più nella vita Cioè ha tolto Questo gioco Tutte le rotture di coglioni Di perdita di tempo È tutto gioco Parla Gioco 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 Parla Parla Gioco Sposta Per me è fantastica Sì 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 Sono quei quality of life Che sicuramente Eh esatto Sono quelli che rintrovero A fare al fantasy Al momento è ripetibile Quality of life Ma anche come Parliamo La roba che Mi dà fastidio È quanto non sia divertente Gran parte della roba Che ho fatto Nelle venti ore Se poi arrivano i miei giochi figli Non lo so Ma io non Quello lì Mi trovi abbastanza Nel senso Io mi sono abbastanza divertito Poi ci sono alcuni giochi Che magari Se proprio devi raggiungere Il primato Allora lì Magari si è romperti le palle Alcune cose Sono molto fine A se stesse Sicuramente C'è una ridondanza Di alcune attività Che io Ma io stesso Ho dichiarato In fase di recensione Avrei Evitato Sicuramente Anziché mettere Tre cacce Di oggetti Con il ciocbo Me ne metti una Anziché mettermi Tre cacce Di cristalli In giro Ma anche la caccia Del ciocbo In generale Quella che va in giro In l'open world Secondo me È proprio È un tempo Lo spostamento Del ciocbo L'annusata A parte anche Lo spostamento Del ciocbo Ho detestato Ti sento malissimo Non è mai uguale Ho visto Il giallo E il grigio L'annusata Però Quando stai in giro Che lui ti dice Qua c'è un oggetto E tu annusi Sposti la leva Vedi dov'è Vai là Cominci Una volta Sbagli Un millimetro E il becchimale E il becchimale Sì 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 La conferma Guarda quante rotture di palle ci sono Alla fine Quante ore hai giocato Il problema è che tu A queste tante piccole rotture di palle Dai un peso A me queste tante rotture di palle Sono una roba che ti dice Che quando parlo con Valone Parlo con te Sì però che è la rottura di palle Ma finisce al Te lo sto dicendo No certo Perché sei un giocatore di RTG È una costanza Le rotture di coglioni Diverse Sì Questo è vero Nero anche questo Però adesso Non sono abituato alle rotture di coglioni Che per me vanno Cioè vanno proprio Invece la roba che volevo morire Cioè ci sono delle cose Che proprio trovo intollerate Anche il premio Mi diceva qualcuno Il premio alla fine è buono Come ricordo E ci sta Però secondo me Puoi fare un gioco in cui L'attività è bella Se mi mandi a fare la caccia Non sono così impassidito Perché la caccia per me è Gioca col sistema di combattimento Che è figo E ne trai qualcosa di positivo Mi mandi invece In un bello ambiente A raccogliere due bauli Che devo trovare Ti dico È balalla No ma infatti Ci sono attività Che sono riuscite E altre che sicuramente Avrei evitato Però bene È ovvio che Secondo me Loro si sono trovati Davanti a un problema Loro sapevano Che in Rebirth Dovevano Aprire Aprire la mappa Aprire le cose E dovevano metterci Roba da fare Altrimenti avevi un mondo Bello Ma vuoi Matteo Aveva dato fastidio Le remake No A me no Per me potevi continuare Sulla linearità Però Lo puoi dire a me Però Il pubblico di massa E a 17 milioni di giocatori Di Final Fantasy VII originale Qua Se non gli dai La world map La mappa gigante Che merda Che schifo Qua è la tenenza Però non l'avevano detto Perché non era Nel Era ovvio però Perché nel prossimo Dopo Midgard Avrebbero aperto Era palese Vabbè Quindi la colpa è Del giocatore Di testa di minchia Gior L'hai detto tu Io mi dissocio Però Sono abbastanza d'accordo Però l'ha detto lui L'hai detto tu L'ha detto lui L'ho detto lui L'ho detto io L'ho detto In nessuna espossibilità Di come l'ho detto io Ho solo interpretato Che sta roba Incredibile Vabbè Comunque adesso È andato Non ce l'ho fatto Mi recupero la trama Io voglio adesso Vedere che ci sarà La roba Perché lo devi fare Cioè hai giocato L'originale E ti ricordi L'originale No volevo vedere Il momento top E capire Perché è una cosa Peggiore poi Per Gior Esatto Mi spedivendo Davvero Di farti vedere Una roba Che uccide Cioè se non ti è piaciuta La narrazione Fino adesso E ci può stare Capisco anche perché Perché Per me ad oggi Se lo chiedi A me Robert è bello Solo perché Ho giocato L'originale Che a livello narrativo Hanno Preso una direzione Che secondo me È un po' Troppo esagerata Però io Quando dico Non mi piace A livello narrativo Non parlo Di quello che succede Parlo di come Anche Guarda Poco prima Della parata Loro si vedono In una cameretta E L'inquadratura Sulle cosce Di Tifa Io oggi Sono infastidito Dura un secondo Però è proprio Quell'inquadratura Che ha otto anni È fatta pensata Per un pubblico Che ha Che si gioca Stellar Blade Dai Cioè Fondamentalmente Quella roba Se crea Un dibattito Su Stellar Blade Deve darti fastidio Anche in reverse Secondo me Perché è quel tipo Di inquadratura Che se va bene A 12 anni A 50 Dici ragazzi No Io sono un'altra persona Se vedo un film così Perdo la testa E quello che dico io Quando giudico Il filmato Di Final Fantasy Che non va contestualizzato Al fatto che sia In un videogioco Perché proprio Il metodo espressivo È diventato cinema La Cassin 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 La scena Di Intermez Cos'è? Sì sì È cinema È serie tv È cinema Io la giudico Rispetto alle serie tv È cinema Che guardo Che non vuol dire Che deve diventare Del lasso basso Ma che deve essere Una roba Che sa raccontarmi Quello che succede Le faccine Pensate come erano All'epoca Per me non ci stanno Se ci stavano Ma perché sono cresciuto Anche io Questa roba Non puoi non tenerla In considerazione Eh vago Io però Troppo Non posso Condividerlo Perché io Sono consapevole Che quando gioco A Rebirth Lo gioco con il filtro Del me Ragazzino Che ha vissuto La magia di Final Fantasy 7 Originale E la sta rivivendo Con il contesto Di oggi moderno Grafica figa Super mega Architettura Juno Per me è una roba Favolosa Le musiche Poi secondo me Impattano Tipo al 90% Su tutto quello Che è l'esperienza In generale Però questo Questo amore Io un po' Ve lo contesto Cioè se tu adesso C'hai 50 anni E una figlia E ti compri Dopo The Pasqua De Final Fantasy 7 Lo vuoi appesare Al supermercato No ho preso quello Di Mario Kart Perché non c'era No era un insulto A Capcomics Un po' camuffato Che continua adesso Questa mia battaglia Contro la gente Che pesa Le volte basso Capisci che Non va Cioè per me Non è una roba Che dice Beh è normale Innamorata ragazzina Sei cresciuto Cioè questa roba Deve anche Salire di livello Un conto è dire Oh remake Lo faccio Un conto è Sono rimasto là Perché poi tu Nel frattempo Per 30 anni Hai visto Videogiocchi Sì Infatti Il tipo Il tipo Di giudizio Lì Quel tipo Di critica Fatemi passare Il termine Perché poi Mi dico Ma critica Qua Vabbè State capendo È che In genere La applico A tanti altri Che ne sono GRPG Dove magari Mi vedi Invece Super critico Su queste cose Che tu dici Ma Purtroppo Cioè Ribadisco Nel mio caso Final Fantasy 7 Non è un gioco Come tutti gli altri Non è che sono rimasto Io attaccato A come giocavo i giochi A 12-13 anni È che per me Il 7 Ha Qualcosa Nella mia vita Rappresenta qualcosa Di diverso Cioè È proprio Una roba Un life changing Per me è stato Quindi Ho Cioè Quel filtro là Non riesco a fare a meno Di Applicarlo Quel filtro Di cui ti parlavo È proprio una cosa Che mi riesce Impossibile Perché se Però 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 Riesco a vederlo Da fuori Cioè io riesco a capire Determinate critiche Che si fanno Le riesco a cogliere Però io non riesco Ad applicarle su me stesso Perché non Non è così Che l'ho vissuto Rebirth E quindi Me lo sono Tutto così Al prossimo GRPG Sicuramente Magari Per le stesse cose Che ho perdonato A Rebirth Per altre Invece Sarò molto più cattivo È un'incoerenza Me ne rendo conto Però Questo è Cioè Ne sono almeno Consapevole Ci sta Ci sta Secondo me E qual era il terzo Perché avevi fatto I due Tre Il GRPG Ah Era La Iakuza Che ho detto Che non li sanno fare Sono ferma 20 ore Per me Il GRPG Quello però Non l'hai Vendo Cioè Non l'hai Abbandonato Definitivamente È pausa Perché volevo giocare Più questo Persona 3 Lo metto solo Perché mi serviva Un gioco Da da Pirulano E me ne innamoro Perché non ero convinto Di innamorarmi Così di Persona 3 Mi sono Perché mi ci Non sanno Fare Il GRPG Io lo trovo Banale Te l'avevo Non ci ha parlato Per Like a Dragon Secondo me è proprio Un genere Di una vanità Incredibile In cui neanche C'hai troppe Quando tu dici banale Secondo me Stai dicendo Semplice Non si inventa Nulla Fa le robe basic Io sperimento Anche molto poco Con le classiche È la roba Allora Lì arriva Alla critica Ad esempio Per me Di Like a Dragon È che il gioco Non ti incentiva A cambiare le classi Esatto E quindi Non ti incentiva A fare niente Perché io Voi lo guardate Invece le classi E non è una roba Che io dico Beh no Però è più figo Da giocare No Devo cambiare classe E metto altre abilità Sul piatto Se non mi serve Quando tu cambi classe Torni a livello 1 Con la classe Esatto E quindi Sei proprio incentivato Sei incentivato Perché in teoria Quando ne hai mucchiate un po' Fai tutte le magie possibili Però Io sono Sono super critico Su Per me È gente che sta imparando A fare il JRPG Se penso a persona Come funziona Come è bello il combattimento Ma infatti Infatti la mia critica All'Aika Dragon In Finti Welt Che Tutto sommato Sì Nel complesso È stato A livello contenutistico Soprattutto Il migliore della serie E però Rispetto al primo Per me non c'è stato Il passo avanti Che mi sarei aspettato di fare Perché La prima volta Che vanno A provare a fare il JRPG E me lo fanno Classico Basilare Come lo stiamo dicendo Va bene Perché il primo step Sta sperimentando Com'è Applicare quel genere In quel contesto là E per me Era infatti Il mio Il primo Quello precedente Meraviglioso Al secondo È vero che Nel secondo Hai usato Uscire dal Giappone Hai cercato Di espandere La mappa E mettere Più robe Più contenuti Ma ti sei Dimenticato Di rivedere Alcuni Alcuni stilemi E alcune Evoluzioni Del genere Di cui invece Hai continuato A reiterare Gli stessi errori Quello delle classi Per me È in primis Che tra l'altro Arrivano tardi Io a 20 ore Non ho ancora trovato Le classi Per esempio Ma sì sì È la stessa Arrivano tardi In un mondo E Hawaii Che tipo Mi stava bene Anche cambiare Però secondo me L'Hawaii Non funziona Proprio Ma non funzionano Nemmeno i cattivi Cioè Il tono Sui cattivi Ho trovato Proprio odioso Non ha Zero carisma Zero impatto Che hanno Quelli del Perché nel mondo Nel universo Giapponese Avere gli yakuza Che comunque Rappresenta un tipo Di criminale Che hai l'idea Di quel criminale Sai che comunque fa Sì Che è anche il criminale Etico Se vogliamo È il mafioso Del padrino Diciamo Sì Che c'hai Il tizio Con la macete Quando tutti Dovrebbero essere lì Con i mitra E le pistole Che dovrebbero ammazzare Quattro tizi In ciabatte Che è Stona Sono d'accordo Che il tono Lo accetti Perché nel gioco Voi poter leggere PG le battaglie La battaglia contro Il trattore Diciamo Beh Però Però stona ragazzi C'è poco da farlo Sandro Murro fa una domanda Molto bella Gigor È peggio Vito Yuvara o Hitler? Per te Gigor Questa domanda Ci stai pensando Ci stai pensando Gigor No Allora Ma per me Vito Yuvara Non sarà mai peggio di niente Grande Gigoro Io vorrei ricordare Soprattutto a Wallone Che la prima live Che abbiamo fatto Non mi ricordo dove Con Vito Io A Wallone Disse Oh finalmente Mi fai conoscere Una persona Che io reputo Un mito Io seguivo Vito Da tempi in meno Questa cosa non l'hai mai detta L'avrei detto L'avrei scoperto Molto meno L'avrei scoperto L'avrei scoperto L'avrei scoperto A Wallone Non a me cazzo Devi dirla a me No no L'ho detto anche a te Anche tu adesso Stai facendo un po' come vuole Che ti dimentichi le cose Il revisionismo Assolutamente Invece Gigor Ci tiene alle cose Perciò si cazza Se cambiano la storia Di Final Fantasy 7 Stessa roba Quindi Vito È un mito All'inizio Non può cambiare più Capite Puoi dire quello che vuoi Sarai sempre un mito Esatto No però io Questa cosa Te la riprovero Un po' Wallone Perché forse Avevi fatto Ho recuperato una live Che avete fatto Di recente Con il tizio Di Save a Gamer Mi pare Sì Avete parlato In Final Fantasy Ed era venuta fuori Un po' Questa discussione Da un po' Stato Di fan Che volevano Cosa Sì 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 Che però non è così Cioè io non ho mai criticato Il fatto che non sia andata Ma la qualità del cambiamento Cioè il La qualità della roba nuova Io critico due cose Del cambiamento Il fatto che non mi hai dartito Che volevi cambiare Perché al momento Mi racconto il remake Vedi che un po' c'è Questa cosa Questo prima del remake È una critica che fanno tutti Scusa Se io ti dico Ti faccio Ah resistente Un remake E poi è un gioco Dove si fanno le gang Che si ride Si scherza Non ci si spaventa mai Con gli zombie vai a braccetto Ed è un gioco musicale Ma è Il gioco è bene Fisiologicamente Non deve rispettare L'originale Per forza No 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 Ma io sono d'accordo Cioè A me il remake Se cambi Come è stato Resident Evil 2 remake Cioè Comunque ha cambiato Un sacco di cose Anche a livello narrativo O guarda Il 3 A me non danno fastidio Ma il come le fai E nel momento in cui Quindi ritorniamo Al discorso Che facevamo l'altra volta Cioè Se mi metti Tematiche E robe Che non c'entravano nulla Con il prodotto originale E caspita Mi dà fastidio Se te Facevo l'esempio stupido Super in eccesso Stai giocando Al remake di The Last of Us Verso la fine Si apre un portale E Joel entra E si fa un'avventura Con Pippo e Plut e Paperino E poi si ritorna Nel mondo originale E riprosegue come l'originale Quella parentesi Ti farà schifo Perché non c'entra niente Con The Last of Us Ma dipende 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 Non piacerti Però non la trovo Concentualmente sbagliata Cioè non credo che debbano Ma questa è troppo esagerata Dai Pippo e Plut Ma anche quello Secondo me Se l'idea è L'originale rimane E questa è una roba Che voglio fare oggi Mi invento Magari è Ci può stare tutto Secondo me è buono A me ha dato molto fastidio Quando mi cambi La tipologia di Joker Io Tomb Raider Non glielo ho mai perdonato Ma neanche Assassin's Creed Tomb Raider Aspetta Stavo parlando del reboot Che è reboot Reboot Sì Occhio Bisogna sempre fare Questa distinzione Perché se mi chiamavi Final Fantasy VII Reboot Tu potresti davvero Farmi quello che vuoi Nel momento in cui Tu lo stai Resettando E mi stai Rinarrando Quello che vuoi Con degli elementi Base Di Final Fantasy VII E questo non è Allora io Il tuo problema È che l'hanno Chiamato A parte che il remake Credo Il remake del film E prendo un po' Della sceneggiatura E poi faccio Non so Tu in che rapporti sei Con Evangelion Mai visto Cagato Di striscio Tutto Innamorato da bambino E Il reboot Il finale E sono di quelli Che si vanno I film Di rebuild Come li vedo Remake o reboot E più reboot E allora Per me Remake Sta seguendo Quella strada Perché non cancella L'originale Perché esiste Però Ci mette in più Ci mette la roba in più Però L'aggravante di Rebirth È che Nel sommettere Roba in più Fa il paraculo E per non scontentare Gli altri Continua a fare L'originale Lo so che è una cosa difficile Perché Vabbè perché ci stanno In molti mondi E si vanno a scavallare Certo Però a me Quella roba Di concetto E dico una cosa mia Non dà fastidio Cioè poi possiamo Discutere se la parola Remake doveva Prevedere una Fedeltà maggiore Non lo so Cioè però è una roba Oggi nuova Tu te lo sei giocato Final Fantasy VII Per me Venere Ma il problema Di remake È che Ribadisco Quello Il primo remake Quindi il capitolo Prima È che Su 18 capitoli 17 erano remake E alla fine E poi il discorso Che ti facevo prima Del portale Di The Last of Us E proprio alla fine Che ti mettono Questa parentesi Poi tu esci dalla parentesi E si ritorna A rifare Il remake Però è la fine Di un prodotto Di miso in tre Si rifà L'originale C'è di nuovo Questa parentesi Brutta E poi si ritorna A fare L'originale Qua c'è anche all'inizio No? L'inizio è Quella roba là Sì Ma è il peggio ancora Quella roba Dell'inizio Non ci ha capito niente All'inizio facevo Scusa ma Ho visto questi Perché Mi sta ricordando Una roba Che succederà dopo E poi Stupirai Che quella roba Non ha valore Ha zero senso E sai qual è il problema E quindi Il rispetto del tempo Che tu chiedi E tu dici Io però Quella roba L'ho giocata Quella roba Ho investito tempo Per poi capire Che non ha valore Quella cosa Vabbè Quindi Dovevamo buttare Tutti i Rebirth C'ho ragione io Gigo Sono d'accordo Con te Su questa roba Per me Dovevamo buttare Tutta questa roba nuova Che hanno messo Per Rebirth Perché tanto Lo percepisci Che se tu Estrapoli questa roba E riattacchi Tutti i pezzi Hai un gioco Non dico lineare Però hai Una coerenza Una coerenza Sicuramente fedele All'originale E non hai queste robe Per cui io mi sono incazzato Poi è chiaro Che ovvio parlo Con la mia prospettiva Con la mia L'esperienza Che ho vissuto io Poi magari Poi sto vedendo Ora che la gente Lo sta finendo C'è a chi è piaciuto Rispetto massimo Per le persone Non li rispetti Non mentire Non fare Non fare rispetto Per loro Una volta non li rispettavo Sono diventato Molto più tollerante Con l'età Adesso faccio Un sacco di conversazioni Anche con persone Che in passato Non avrei rispettato Adesso parlo Anche col demico No Non ti senti Ah scusate Avevo tolto la roba Perché dicevo In passato Non potevo Perché sono morte Quelle persone Adesso invece Riesco a fare Anche conversazioni Io ho un sacco Di amici Che amano Riberto Questa è la Parola di Gigor Esatto Vabbè Fantastico Allora Voglio approfittare Della presenza Di Gigor Per Farlo Parare Di altro Ho chiesto Scusa Sono Trovolato No no Hai fatto bene Questa è la mia Cosa preferita Quando succede Questo Sì sì assolutamente Perché giustamente C'era da dire Sta roba È bellissimo Entrare così Hai Conosci gli altri giochi Di cui ha parlato Vito Gigor Tipo Tu che rapportai Con Vampire Survivor E simili Io Vampire Survivor L'ho dovuto Disinstallare Perché Era un periodo In cui stavo Giocando Della roba bella E ti giuro Non riuscivo a smettere Ad un certo punto Mi sono proprio fatto Ma che cosa sto facendo Perché passavo le giornate A giocare Con Vampire Survivor E non riuscivo a smettere Allora la cosa Che ho fatto più Veloce E istintiva È stato disinstallare Perché altrimenti Se ce l'avevo là Ho provato a mettermelo Sul telefono Ma non è la stessa cosa Mi piace Anche a me Io devo giocare Divano e televisore E beh Quindi Deep Rock Galactic Lo stavo vedendo Mentre parlavate Mi trippavo un sacco Visto Prossimo gioco Che dovrai disinstallare Probabilmente È tutto Sul L'impasso No no Per adesso È solo su Steam In Early Access Quindi se ne parla più avanti Eventualmente È un gioco Della serie Deep Rock Galactic Che era finito sul passo Quello 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 Era un 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 Deep Rock Galactic Survivor Che Ok Sì sì giusto È vero Tra l'altro Resta In un Dal Non so voi Di pubblicità Di Vampire Survivors Like Ma nessuno Ha la stessa È capitato anche a me È capitato anche a me Compreso Brotato Che Mi è piaciuto Ad alcuni miei amici Anche tanto Cioè ci hanno giocato tantissimo Si sono Sono entrati un po' In dipendenza Da Brotato Però a me Non Non è successo Ne ho provati due o tre Di giochi alla Vampire Survivor Non mi hanno preso Come invece mi ha preso Vampire Survivor Non saprei neanche Spiegare bene perché Perché alla fine Effettivamente era abbastanza Quella roba Però muovi a sapere Qual è il Ma è vero Che magari non è un genere Troppo replicabile Come esperienza Magari ti ci sei divertito Una volta E non è vero Che provi dieci Come con gli action E dici Vabbè è sempre bello Un Souls Magari è un'esperienza Che è stata bella Magari potrebbe essere questo Non lo posso ancora Dare per certo Che sia questo Secondo me può essere pure Che C'è una serie di robe Anche il tipo di grafica Il tipo di mostri Cioè queste cose Secondo me Io tra l'altro Ho giocato alcuni Che il graficamento Sono molto belli Ma che non Quindi guardaci qua Non ti danno Cioè fai Perché il tipo di robe Quella roba là Che sembra presa Da Castlevania Di Vampire Survivor E un po' Secondo me Incide Sul Sul L'attrazione Sulla roba Che puoi avere Dalla cosa Sai Un mix Un mix di roba Anche le armi Perché Sono tutte originali Divertenti Sai comunque Sei curioso di capire Quella combinazione Che ti fa venire fuori Insomma Un mix di roba E poi si ragiona Sul livello Negli altri È un livello Iterato Con cose diverse Però parliamo comunque Di esperienza mobile Alcune Su un sacco Piene di microtransazioni Ti dà tutto A tre euro Quindi figurati No No Nettamente Sì Fichissima anche Quella roba là Assolutamente Va bene Però io sono speranzoso Per Deep Rock Galactic Survivor Molto curioso Molto voglioso Va bene Vito Di che altro vogliamo Delle belle domande Della chat Gigo Resti con noi O ti vuoi liberare Sì 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 Se a voi A noi fa piacere Sì altrimenti Se dovete parlare Di cose Vostre Quando vogliamo Ti censuriamo Tranquillamente Non ti preoccupare Guarda Basta fare così Guarda Vedi Ecco qua Gigo Già non esiste più Poi se invece voglia Tac E visto È facilissimo Quindi tranquillo Non ti preoccupare La prima domanda È di Shepard Sì Cosa dice Come la pensate Sul modo in cui Capcom Ha inserito Le microtransazioni Su Dragos Dogma Ne è nata una polemica Nel primo periodo Brutta Che poi è rientrata Quando si è scoperto Che in realtà Quegli acquisti Quelli più brutti Diciamo che sembravano Un po' più Andavano in funzione Di risolvere Le scocciature Del gioco In realtà Era un acquisto unico E a quel punto Io Dite voi Poi io vi dico La mia Anche un po' in generale Su questo argomento Io vorrei far riflettere Comunque Ad esempio Una degli oggetti Che sicuramente Magari può tornare Più utile È la pietra del teletrasporto Perché sapete Che viaggi rapidi Sono contati È quella più criticata Immaginatevi Che stai giocando Sei uno che non ha problemi Con i soldi Con il portafoglio E quindi Va di microtransazione Senza problemi La rottura di cazzo Di rompere Andare nel store Riscattare la propria pietra Andare in una locanda A casa sua Ritirare la microtransazione E poterla usare Perdere tutto questo tempo Che è messa la panchina Di fare al fantasy A occhio e croce Ma in realtà penso L'idea era Ne compro dieci E me le metto in inventario Dai Non è la Ma il fatto è Gigo Non so se lo sai Che quello è acquisto unico Tu ne puoi comprare Una sola Quindi Diventa irrilevante In generale Sulle microtransazioni Sendo il tuo tirare Con la microtransazione Dice Ti faccio percepire Il valore di questo oggetto Che hai pagato Sappi che quando ne troverai altre Quindi Ma secondo me Ci vogliono fare qualche soldo Però poi L'abbiamo spaventato Nella cistorm Eviti Però io non ho proprio problema Con le microtransazioni Se il gioco non è costruito male In funzione di quello E questa cosa È difficile da capire Perché Una volta che abbiamo capito Che Dragos Dogma Non ce le ha Non le puoi acquistare Quelle robe È per scelta Pensato così Esattamente come Quelli di Final Fantasy 7 Hanno pensato La panchina Per recuperare SPHP Non è vero Che è sempre L'oggetto Che risolve quel problema È perché Voglio incularti Faccio il gioco Per incularti Però quello È chiaramente Il problema Che ho più grosso Con le microtransazioni In generale In generale invece Se una persona C'ha i soldi E non c'ha tempo Per me è una valuta Il tempo Esistono delle persone Che hanno più tempo Perché sono più giovani Esistono persone Che hanno più soldi Perché lavorano La possibilità Di usare i soldi Contro il tempo Per me non deve essere Negativa di principio Se il gioco Non è costruito Perché il tuo tempo Non valga niente Quindi è meglio Spenderci i soldi Chiaro che poi La linea Da trovare È difficile Però Sì sì Ma io guarda Su questo Sono completamente D'accordo E Poi Sbaglio Io Ve lo giuro Quando è iniziata Tutta questa polemica Su Dragon's Dog Ma Dicevo Ma scusate Io Sto giocando Al gioco Ma dove sono Io non le ho percepite Minimamente Semicrotransazioni Poi tutti mi hanno detto Eh perché si vedono Da Steam Che Steam te le propone Subito Le microtransazioni Nella pagina Vabbè ma la polemica È arrivata A prescindere Io non so Se giochi da console Se tu Non sei uno Che va a spolpare Lo store Il gioco Non ti dice minimamente Che esistono Che è un altro fastidio Tipo Diablo Immortal Non è che c'era Il problema Della microtransazione Intanto era costruito Per essere una palla Al cazzo Senza microtransazioni Da un certo punto E poi E poi te le sparava In faccia Ogni tre secondi O penso Solo gli ultimi Assassin's Creed Che c'hanno proprio La home Del gioco Con Lo store Qua Là Comprati E è uscito Questo Però quelli che Sempre sono giochi In cui la microtransazione Non è l'obbligatoria Nel gioco No Però per dirti Però Quello è un gioco In cui ti dice Baci a dare un'occhiata Allo store Se vuoi Cioè In Dragon's Dog Ma io non sapevo Quando Nei primi giorni Che lo stavo giocando Che esisteva Uno store Che ti vendevano Quella roba là Wallone E maestro Allora Una roba Gigo Scusa Posso chiedere a Gigo Provi a arrabbiare Tu come lo senti? Bene Wallone? No male Ma penso sia una roba Perché sì Pure l'ultima volta Era Il microfono Il microfono Sì Ti perdo spesso Scusa Vai Wallone Allora Secondo me In generale Quando Noi abbiamo Un problema Di Gioco del telefono O di Tam tam Di una roba Si parla di una cosa Uno fa notare Una roba E si comincia A commentare Ragionare Sulla Sensazione Di quel qualcosa Avuta Dal primo Che la mette In giro E quindi Si commette Senza andare A vedere Di fatto Che tipo Di problema Ci può essere Quanto Può incidere Si comincia A parlare Le microtransazioni Sta roba Senza andare A vedere Di base Ed è così Da sempre Da sempre Sulle microtransazioni In particolare È così Da sempre Cioè il cavallo Di Oblivion L'armatura Per il cavallo Di Oblivion Era una Una roba Che ha generato Un sacco di chiacchiere Di polemica Eccetera Quando era Una cosa Che Cioè I DLC In generale Li puoi anche Perché là Il presupposto È che non deve Esserci microtransazione Se io ho pagato Il gioco È una roba In questo mondo In cui i videogiochi Non sono mai aumentati Come aumenta Tutto il resto Dell'universo Secondo me È Particolare Insomma Le si perdonano Al free to play Ma il resto Non ci devono stare Non è vero Ma non solo Ma poi Può anche Può anche Essere una roba Del tipo Allora Le recensioni Hanno parlato Del gioco Oppure tu Ti puoi fare Un'idea del gioco Se il gioco Va bene Anche senza Cioè È quello Che ti propone Pensa Allora Dark Souls Ok Non le ha messe Ma Se avesse messo Delle microtransazioni Per farti avere Il doppio Delle fiaschette Testus Però non le ha messe Quindi il gioco È così È difficile Tra virgolette O ostico In determinate cose Perché ha quella roba Dragon's Dogma 2 È così Poi A parte Ti vende Delle microtransazioni Che tu dovresti Anziché pensare Eh Metti queste robe Così Mi costringe Cioè come No Pensa Rifiutale Perché Non Ti vanno A modificare Quella che era L'offerta Del gioco Però quella sensazione Nel momento in cui c'è La microtransazione Nel wallone Ti viene da per esempio Il mercato mobile Che invece è tutto un mercato Basato sul Costruito Sul creare L'esigenza Che ti porta Nello store E da lì Non puoi giocare Per quattro ore Se non paghi Tipo Eh no ma c'è Per esempio Il giocato Ero finito sotto A un Natale A un gioco Di crea Dei mezzi Di gatti Da combattimento Non c'avevi pezzi Non arrivavi A fare delle cose E quel mercato Ti porta a pensare Quando vedi La transazione Eh allora L'hai fatto Più difficile Un souls Perché mi vuoi vendere Quello Esatto Andrebbe giudicato Però alla fine Poi perciò Tu ho fatto l'esempio Proprio dei souls Perché quelli Esistono Sono difficili E non ce l'hanno Le microtransazioni Quindi ci può stare Che il gioco Possa essere anche Ma c'è Io ho fatto l'esempio Di Final Fantasy C'è la panchina È così Intensata Di game design In quel modo Vai a capire perché Se ci fosse La microtransazione Per non alzarti Il cartello Ti dico Non mi verrebbe in mente Che l'hanno costruito Scemo apposto Probabilmente mi verrebbe in meno Perché per me È inconcepibile Quanto è scemo Alcune cose Però nella loro testa Non è pensato così Quella linea Di capire Quanto hai costruito Il gioco In quel modo Perché avevi una visione E quanto invece L'hai fatto Non è facile Quindi non la do mai Né scontata In un modo Né nell'altro Esattamente È troppo difficile Lo puoi dire Di qualunque cosa Se metti Una microtransazione Che ti aiuta Nel gioco Puoi dire Che allora L'hanno fatta apposta Per Anche se Quando invece Boh Magari Il gioco Vuole essere In quel modo E poi Ti vende Sta roba Per Per dire Io la pagherei Una transazione Per avere Più fiaschette Io ho comprato Mi pare In Dead Space Dead Space Quindi all'inizio Proprio Ah il primo Ok L'originale Il primo L'originale Ho comprato Una roba Che ti sbloccava Da subito Tutte le armi Una cosa del genere E mi sono Ma lo so giocato così Sì perché dicevo Questo è un gioco Che mi fa molta paura La paura è data Va di pari passo Anche col fatto Che sei in difficoltà Magari nelle cose Invece c'ho Subito Una bella mitragliatrice Super carica E viene il mostro Mi fa paura Però almeno Mi posso difendere No E qui E infatti Me lo sono goduto così Ed è stato Bellissimo Non mi ha Cioè non è stata Una roba brutta È stato un fatto In più Ma mi sono sentito Di pubblicato A comprarlo No assolutamente Era un'opzione E io l'ho accettata In altri casi Non la prendo neanche In considerazione Un'opzione del genere Mentre tutti e due Come vi rapportate Con Yakuza Che ha messo Il New Game Plus Come microtransazione A pagamento Che poi non è neanche Microtransazione Ti devi prendere O la Collector O la Digital Perché non la puoi Ah non la puoi comprare A parte dopo Hai preso il gioco Ma vuoi fare Puoi fare l'upgrade Alla Digital Probabilmente Quindi Puoi fare l'upgrade Esatto Quindi è un microtransazione Alla top E lì magari Un pochino Un pochino Di fastidio L'avrei voluta Anche perché Quella C'ha una specie Di sottotrama Quelli che c'è Dentro il New Game Plus C'è un dungeon extra Che Che era un golaviano Che era un po' avvelenato Con questa cosa Non per il New Game Plus Che non gliene fotteva Ma perché c'era il dungeon Esatto Che ti faceva Livellare di un certo livello Sì Ti fa arrivare Per prendere L'ultimo obiettivo E platinare il gioco Non riusciva invece Col gioco tradizionale Un gioco basso E' più quello Il problema E' più quello Ma tornato proprio Con l'Aviaro Su sta cosa Sì perché poi Il New Game Plus Di per sé C'è Ma che Non lo so A parte che Ormai negli ultimi anni Il New Game Plus E' difficile Vedarlo subito Al Day One C'è C'è chi ci costruisce C'è dello sviluppo A quanto pare Dietro il New Game Plus E quindi Magari sono costi Che te lo vogliono Far pagare a parte Non li sto Ne giustificando Ne Comunque Lì io faccio fatica Perché a me interessa Non credo Di aver mai giocato Un gioco in New Game Plus Però è il tipo di cosa Che mi aspetterei Nel pacchetto Mentre su altre cose Sono proprio Di larghissime vedute Questo boh Non lo so E' comunque contenuto extra Però è anche Di ciclo Però esattamente come Come Like a Dragon Anche in Dragon's Dogma A me ha fatto Più strano Tutta questa roba Questa discussione Che è generata Il fatto che sia arrivata Adesso Per questo gioco Caso Like a Dragon Anche il precedente New Game Plus Era dietro L'upgrade Era digital Questa è la questione Del Tantan Se ne parla E allora si comincia A commentare Magari uno Non ci farebbe caso Capito? Esatto Esatto Uno vi direbbe Ma poi Ma poi Nella stessa ottica Nella stessa ottica Ci sono stati giochi Che vengono recepiti Come Ah Questi bravissimi Qua e là Per perdermene una I Tales of Vi permettono Di pagare Per ottenere Valuta in game Soldi Denaro E livelli Potete farvi 50 level Iniziare il gioco Con 50 level Io questa roba Non sono mai contro Per me è quello Che dicevo prima Lo scambio Tempo Non lo sto demonizzando Non lo sto demonizzando Ti sto dicendo No 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 Sto dicendo su chi lo crede Nel paragone Con quello che fa Dragon's Dogma Che all'inizio Veniva detto Ah Questa è roba Pay to win A parte che non è roba Pay to win Ma la roba vera Pay to win Quando c'è stata In maniera reiterata Perché il Tales of Lo fa da Vesperia Quindi dalla generazione 360 Che ti mette queste robe Nessuno ne ha mai parlato Nessuno E tutti dicono Ah Noi Tales of Ancora Ti fai I JRPG Come una volta Non si fanno contaminare Come fa Square Enix Quella E poi vai allo store E per quello che critichi A Capcom Non lo critichi Per loro Che li hai visti sempre Come Rispondo a Sandro Burro Di prima Tales of E peggio di Hitler Ma la serie In generale Ma intanto si sente Benissimo Gigor E voglio far notare Una cosa A questa splendida community Però Che mentre a Vito Iovara Di fare due palle Così l'altra volta Mi avete mandato Da psicologo Per i problemi Al microfono Che è colpa del software Nessuno aveva scritto Gigor il microfono Non benissimo No qualcuno L'aveva scritto Dai Ma poi È abbastanza famoso Anche Gigor Perché a Vito Iovara È presente Più spesso Quindi Cioè Poi da Vito Iovara Ci si aspetta Di più Io queste live Improvvisate Le faccio col pc Da lavoro Non c'ho il setting Col microfono Ma adesso Benissimo così Adesso L'ho sistemato Infatti Sei pazzo Veramente Gigor Hai che Fon pensare A tutto Vito Iovara Infatti Adesso Ma che hai sistemato Però per curiosità Ho messo Il microfono E ho attaccato Le cuffie Al microfono Hai attaccato Le cuffie Al microfono Cioè A che serve Questa roba Non lo so Perché magari Sentite il riverbero Della là Perché Ho l'audio Che usciva Dal monitor Forse Magari Quello Domanda Bella Di Onigun Sì Sono due O quindi Pronuncio Un finale Va bene Sì Io vorrei Postare una domanda Ovviamente Ingentilendola Il più possibile Ma con una premessa È una critica Costruttiva Sì Ho notato Che molti di quelli Sopra i 30 di età Hanno questo rapporto Conflittuale Con i giochi attuali Rispetto ai detti giochi Ma se il problema Fosse proprio La loro età Cioè se semplicemente Fossero troppo vecchi Per apprezzare i giochi Come lo facevano Da ragazzini Vorrei degli esempi Per capire Questa cosa Però Però secondo me Non siamo noi In generale Che ne abbiamo Ioara un po' sì Sinceramente Però 30 un po' Cioè voglio dire Vabbè Lui dice crescendo 30 non funziona Con Tanto qua Non lo so Gigor Qua Gigor Non so Quanti andiamo Quest'anno 39 Ah 30 Quindi Comincia a funzionare poco Pure per Gigor 30 Io credo che sia Proprio normale Invece che A una certa età Cominci a Avendo provato più cose Visto più cose Essendo più credito Cominci a desiderare di più E non essere più la persona Per cui va bene tutto A 8 anni Ti vedi i film di panzina Ridi Sei contento È la roba È l'esperienza di vita Poi cresci E muoi Infanzia di merda Ah beh Io non credo che Io ce l'ho avuta La fase Vacanze di Natale E firme Scherzo Scherzo No io no Però Scherzo in ogni No veramente Ma Secondo me Comunque In cuor nostro È che Sentiamo L'esigenza Di un gioco Pensato Solo Per noi adulti Perché Tendenzialmente I giochi Vengono fatti Un po' Per tutti No Cioè Immaginando Cercando di abbracciare Quanto più target Possibile Poi sì C'è sicuramente Quello che è Un po' più alto C'è il gioco Pensato Per Il trentenne E il quarantenne Perché Mi viene in mente Dell'Astovas A livello narrativo Non credo sia proprio Super digitale Però C'è Sì Però Dell'Astovas A livello magari Di scrittura Magari ci può arrivare Però a livello di Esperienza ludica Cioè Dell'Astovas Non si inventa Nulla E fa quello che Faceva un charted O un TPS Classico Di quella Di quell'epoca Ciao viking Quindi al punto Un chiamante lui Dobbiamo chiamare Sì viking Sto pensando La stessa cosa Deve venire a fare due Ghiacchiere Anche viking Non può neanche rifiutare Non lo stiamo neanche chiedendo Io lo conosco direttamente Ma mi è stato detto Che lui è uno di quelli Che ha apprezzato O comunque non gli ha dato Il finale Nettamente È vero È vero È vero È vero Impossibile Eh no Infatti ci vorrebbe più sta roba qua Ci vorrebbe più sta roba No ma poi appena finito di dire Che il tempo è tiranno Ha detto viking No no Facciamolo venire con calma Anche con Gigor In un'altra occasione Magari Però ci organizziamo Poi no Full spoiler Non la possiamo fare Perché io pure Non ho finito il gioco Non voglio Eh Per te sarà vivevante Immagino La parte di trauma No vabbè Però Però La sorpresa Ma che c'è sto cloud Nel finale Che non riesco a capire Ma c'è me Ma me lo ricordo un po' Eh non è proprio Un nuovo nodo Aspetta no Però sulla questione Dell'età E dei giochi Per me Non funziona Cioè per me non vale Io non A me vanno bene Nei giochi Cioè io ho avuto Io mi sono appassionato Nelle varie epoche Che ho vissuto Ai giochi Delle varie epoche Cioè ho avuto I giochi Tra i miei giochi preferiti Ci sono Giochi degli anni 80 Giochi degli anni 90 World of Warcraft Eh Hearthstone Che sono altri dieci anni dopo I Souls Che vengono ancora Che vengono comunque dopo Cioè Sono Però valore Sei più esigente Sul lato narrativo Oggi Su Final Fantasy Rispetto al capitolo originale No 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 Cioè No Sono No Valuto la qualità Della roba che gioco Man mano che la gioco E il fatto che siano passati Trent'anni Secondo te Nel tuo modo di giudicare Non influisce in qualche modo Sì Sì sicuramente Però no Però Nigumo ne fa una questione Di Non vi Non piacciono Alle persone più Vecchie Non piacciono I giochi Perché Hanno un rapporto Conflittuale Con i giochi attuali Non mi ci ritrovo Ah ma nemmeno io Io Però lui questo dice Guardate Ho notato che molti di quelli Sopra i 30 di età Hanno questo rapporto Conflittuale Con i giochi attuali Rispetto ai vecchi giochi In generale Ma se il problema Fosse proprio la loro età Io non mi ci ritrovo Con questo In generale No Perché mi diverto un sacco Anche con roba moderna Che intruisca di più Il fatto che ci abbia 43 anni Su un sacco di aspetti Ma non nel generale Per forza un conflitto Però No Un conflitto Nel senso Che non ti piace Tutto quello che giochi Penso sia quello Ma questo per me Era uguale Negli anni 80 Però Avendo meno esperienza Avesso visto Meno film Avendo giocato Meno giochi Avendo letto Meno libri Avendo visto Meno serie di tv Magari Ti guardavi la trama Di Final Fantasy VII Non era un problema Ma è molto specifica Questa cosa è molto specifica Mentre la domanda È molto precisa È I vecchi hanno Un rapporto conflittuale Con i giochi moderni Se la prendo In assoluto Io gioco Oggi 100 volte di più E mi diverto Molto più oggi Sì 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 Maximo dice Fortnite per noi È immondizia Per i ragazzi di oggi È vita Ma questo perché Fortnite Per me non è neanche Immondizia No esatto Non lo è neanche per me Però è vero Che io non ci gioco Ma non gioco E in tutte le epoche Non ho giocato A tutto quello che usciva E non mi piaceva Tutto quello che usciva Fortnite è così Ma ci sono robe Di Proprio di questo periodo Che a me piacciono Ce ne sono Ma io potrei fare anche Un esempio un po' Opposto Io vedo tantissimi Over 30 Giocare A Call of Duty A me Call of Duty È la cosa Più Antidivertimento Ma per me Chiaramente per me Certo Per te È chiaro È chiaro Quindi Si crea Però non lasciamo giudicare Il divertimento A uno che gioca Il JRPG Capisci che è proprio Una persona Geneticamente Non giudica Al contrario L'accuso questo Però Tony Pizzide Dice Io vado per i 50 E non ho mai giocato Tanta roba E tanto diversa Io mi ritrovo Molto più Anche 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 Cioè È proprio meglio Oggi per me Ma proprio Più tempo Più soldi Più possibilità Cioè anche come piattaforme Tipologie di giochi Cioè ho accesso A una quantità di generi Cioè il Game Pass Cioè io gioco Proprio sperimento Di più Io sono felicissimo Della roba attuale Se la confronto Con il passato Poi può ancora migliorare Nettamente Poi mi capita Di più forse Nei AAA Per come sono pensati Oggi Di essere E meno contento Sì Certo Però Magari Allora Maximo dice Non giocate 100 ore Al mese A Fortnite Ma non giociamo 100 ore Al mese A Fortnite Perché non ci piace Fortnite Perché Fortnite E degli anni 10 O degli anni 20 Sì sì Poi non mi piace Neanche a me Il genere Ma non sono Che pensa Che è in mondizia Né a Fortnite Né a retro gaming Io non faccio neanche Tanto retro gaming Quindi non c'è Questa roba Ora ci giocano Sì Maximo Certamente Ma negli anni 80 Quando Io Mi capitava di giocare Ai giochi degli anni 80 C'erano cose Per esempio Io non guardavo I film di Vanzina Ed era in quell'epoca E io ero piccolo In quell'epoca In cui Oppure I telefilm Però secondo me Era Non li seguivo Era a casa Che avevi una Preparazione diversa È impossibile Possono essere Mille i motivi Ma Non c'è Le robe Diffuse In quell'epoca Non è che poi Ti piacciono Non ti piacciono Se tu hai la giusta età In quell'epoca Può capitare Qualunque cosa Sì sì Non è Io per esempio Su Fortnite Non ho rapporto È giovane Moderno Giocano i giovani Fa schifo Non mi piace Il genere Mi piace anche Sulla carta E che poi Dopo tre partite Mi sono stufato Però una partita Quando lo metto su Non ho mai provato Fortnite Perché non mi piace L'estetica Ma Warzone Ci ho provato Mi sono fatto delle partite Due partite Mi diverto Alla terza Dico che palla E basta Voglio altro Però Allora vedi Diablo che non è riuscito A farsi bannare Per la questione Della linea Vediamo se ci riprova adesso E dice Io invece vado Controcorrente Mi divertivo molto più Tra anni 90 e primi 2000 Con i videogiochi Senza dubbio Togliendo pochissime eccezioni Come l'ultimo Zelda E l'ultimo GTA E il recente Baldur's Gate 3 E siamo già a tre robe Comunque La roba che mi hanno dato I capolavori del passato Mai la riscontro oggi Può capitare Ci può stare Era più nuovo che Arte E' come dire Che Ritorno al futuro Erano più belli film di una volta Cioè alla fine Sono storie Di un certo tipo Neanche esagerato Che però ti colpiscono In un momento Diverso Poi da come Vi scrivi Diablo I videogiochi Secondo me Non bazzichi troppo Il mondo indie Che invece è quello Che oggi Secondo me Se hai un po' di anni È quello da cui Puoi trarre più soddisfazione Indie inteso sempre Molto largamente Cioè Sì fu e returna Le robe Che non è vero mai Che prima erano belli Oggi Che palle Sono tutti Gli stanno Veramente tante possibilità Abbiamo parlato qua dentro Parliamo di mille giochi al giorno Tutti diversi Tutti nuovi Io mi diverto A guidare camion Cazzo vuol dire Sì 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 Allora Cento ore al mese A Fortnite Non le gioco Ma ho giocato Cento ore al mese A World of Warcraft Quando era appena uscito World of Warcraft A Hearthstone Una generazione Hearthstone Dieci anni dopo Di nuovo Cento ore al mese A Hearthstone Quindi Dipende da cosa mi piace Cosa non mi piace Non dipende molto dall'epoca Onigumo precisa Che quello che diceva Nota un sacco Di lamentele In più Oggi E le lamentele Provengono Da gente Over 30 Secondo me Sì Secondo me Un po' Esiste Che c'è chi Non ha più voglia Di giocare ai videogiochi E magari dice Era meglio prima Oggi è brutto Oggi è così Sì ci sta E sicuramente Chi può dire Che era meglio prima C'è una certa età Per poterlo dire No? Quindi sì Il problema Potrebbe Ma Secondo me Non è l'età Il problema E sta roba Poi della mente La voglia di lamentarsi È tanto legato al fatto Che i commenti Che leggi Arrivano solo Il negativo Perché il commento positivo Non si fa Anche questo è vero Questa roba Eccide un sacco A me sta settimana Sono arrivati due commenti E volevo abbassare due persone E magari c'è gente Che ti vuole bene Ma a te arriva Solo i due commenti Di cacacazzi Sì L'idea che ci facciamo Sto leggendo il libro di Costa Affronta questo argomento Del bios negativo Che fa un esempio figo Cioè vanno dalle persone In America Sondaggi Dicono Tu come stai Sto bene Guadagni bene Sì C'hai lavoro Sì C'hai una bella casa Sì Stai bene con i figli Com'è la tua vita Fantastica Ok Come va il mondo Il mondo è una merda E perché? Perché anche se hai quel contatto reale Poi ti arriva il telegiornale Guerra Disassa E tu hai la percezione Che tutto sia disastroso E nei social Ti arriva solo negatività Perché vende Perché funziona Perché è quello che Che poi genera altro Odio Altra roba E quindi noi viviamo in questa roba In cui non riusciamo a farci un'idea vera Di com'è il mondo E sì Esiste Quel tipo di persona Che può far credere Che il mondo dei videogiochi Una volta era fantastico Oggi non l'è Ma secondo me questo è veramente Sotto tutti i punti di vista Il miglior scenario possibile Dei videogiochi Perché c'è sia il triple A figo E lì hai citato Ovvero Baldur's Gate 3 GTA 6 O Zelda C'è un sacco di roba Di qualità Di livello inferiore A livello di costi C'è mille possibilità Abbiamo avuto il cross platform Il cross sale Che è una roba Che non ci potevamo sognare Stiamo avendo i giochi Xbox Su Playstation I giochi Xbox Su Switch Stiamo vedendo Sony Che va su PC C'è un sacco di barriere Stanno sparendo I videogiochi Escono Ed escono comunque Anche di super qualità Guarda il 2023 Che è l'anno Secondo me Degli ultimi 15 anni Del triple A Probabilmente Che vedremo Fra 15 anni Cioè Quello che è successo L'anno scorso Era che non sta Bevito mettere le mani Incredibile Secondo me Anche del triple A Anche adesso Sì Anche questi mesi Questi mesi Per me Secondo me È un livello sotto Però sia di impatto Che steve Però comunque Cavolo Certo Da gennaio adesso È stato un Pa 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 Poi non tutta la roba È venuta benissimo Ecco Magari questo E neanche sulla carta Non era il livello Che a maggio C'era di zelda Diablo Si fa No 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 Secondo Che sulla carta Sono Siamo d'accordo Però insomma Non è che ci stiamo Rilassando Con questo Va bene Allora La sveglia è suonata Vito Quindi Abbiamo Diciamo Ci avviamo Verso la conclusione Facciamo un ultimo quarto d'ora Di chiacchiere Poi si va a camminare Anche perché stasera Alle 21 e 30 C'è il lag Non è giovedì Questa settimana Ma stasera Mercoledì Chiacchiera Sulle localizzazioni Ci facciamo Quindi Interessante Anche Interessante Sempre Stasera Interessante Perché è argomento Che non avevamo ancora Trattato All'ag E Questo Lo dico sempre Dice Onikumo Questo è il miglior periodo Di sempre Eppure la gente Strabuzza gli occhi Oppure alcuni Noti streamer Di settore Rispondono a meno Eh ma non capisci Un cavolo Non hai visto I veri giochi Eccetera Come se io poi Fossi Piccino Vabbè ma secondo me Onikumo Secondo me anche un po' Cioè A volte l'esagerazione È da un lato Però anche dall'altro Dai Cioè Anche tu Puoi notare Che guarda qua Quante persone Stanno dicendo Che invece Non lo sai Sì sì Per me quella invece Ti arriva proprio Se frequenti la roba Sbagliata È proprio una percezione Sì Dobbiamo combattere È difficilissima Da combattere Però esiste Sì sì Ma come diceva qualcuno Più su Non mi ricordo Chi Jerry Forse Jerry Italia Diceva Oggi c'è anche Più C'è modo Di notarle Di più Le lamentele Perché c'è internet Quindi ovviamente Più Magari Il fatto di lamentarsi Del presente È una roba Molto diffusa Generalmente Generalmente Tolti I casi Specifici Dove ci sono Dei motivi È un po' Il gusto Di lamentarsi Tanto per Ma poi se vai a leggere Le cronache Degli artichi romani C'è stanno Quelli Quelli che si lamentano È una merda È chiaro Preciso Preciso È chiaro Sempre Prima dell'esistenza Dei videogiochi Già Nettamente Nettamente Proprio Ho annunciato Un gioco Che mi sono venuto In faccia Lo vuoi vedere Non la scena Ma il gioco Però lo posso vedere Comunque Ti vado in link Perché è veramente Bello Cazzo Neo Sprint Si chiamano Eh no Ti trovate lì in quel video Scusa Neo Sprint Madonna Sembra bellissimo Ci fidiamo Io no Vediamo Andiamo a controllare Te lo sto linkando Si Sto aspettando Eh si Sto sbagliando Sto commentando In presa diretta Una notizia L'annuncio Di Neo Sprint No 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 Ma il director Di Rebirth Si È stato Ucciso No È stato promosso Dirigente Di Di Square Enix È una cosa Che non sopporto Perché questa cosa Viene fatta Sin dai tempi Eh di PS1 Con Sagakuchi Che siccome il gioco Ha successo Allora si pensa Che dargli una posizione All'interno Dell'azienda Rilevante Eh Aiuti in qualche modo L'azienda stessa Ok La La persona Che ha portato Valore al gioco Adesso si trova In una posizione Di rilievo E quindi magari Ha più tempo A meno tempo Da dedicarsi Magari alla cosa Che lui faceva bene E Sì sì Assolutamente Ci sta assolutamente Come osservazione Cioè ma storicamente Square Enix L'ha fatto sempre E ha sempre creato danni E io speravo Ma è andato così bene La dirigenza Non si fosse più Non l'avremmo più vista Invece Ho detto il motivo Per cui È stato Elevato Magari l'hanno proprio Tolto dallo sviluppo Perché dice Forse è meglio Se vai a lavorare Non credo Perché c'è ancora Parte 3 Che ancora lui Dovrebbe essere Ancora membro attivo Hanno fatto di recette Un'intervista In cui ancora Però Oggi è arrivata La conferma Della sua promozione Dirigente Vabbò Niente Però Questa piccola parentesi Rebart Rebart Ormai è Mettiamo Vocali A caso In mezzo a queste consonanti Ed è troppo bella La modalità Comuncia proprio Da un'altra zona Dell'Inghilterra Che tu non conosci Rebart Rebart Questa è quasi Come Invece Sembra L'ultima È molto valida Però un po' Diventerà Final Fantasy Roberto Roberto Già sta Lo chiamerò Roberto Da adesso un po' Mi piace un sacco Roberto Final Fantasy Roberto Ma sì ci capiamo Sappiamo Che quando si parla Di Roberto È Roberto E la monce Roberto Roberto è fantastico Vabbè ma l'abbiamo visto Il gioco Che ci ha rovinato Gigor Con queste ghiacchie Scusate Il gioco Sì tra l'altro Sembra carino Ti piace più La parte dove si gioca O la parte Che ti permette Di costruirti le piste La parte dove si gioca La parte costruire Non è anche mai Le provo Però questo gioco Secondo me Un po' punta Su quello pure Mi piacciono un sacco E i giochi con le auto Dall'alto Le compro un sacco Ne provo un sacco Ma ti piaceva Micro Machines Pure Storicamente Micro Machines Mi ci sono sfasciato Avevo due multitap Su Playstation 1 Regalato dalla mia classe Al compleanno A 18 anni Facevamo le gare In 8 Certo certo Fatto anch'io Eravamo come venivano In 15 Mi dico per quello Ma giocavo le micro machine Su Amiga Che mi piaceva un botto Sì L'1 e il 2 Sono precedenti Poi il V3 E' uscito su Playstation E' diventato molto famoso Però pure io giocavo anche al 2 A casa di un amico Col Mega Drive E' da me su PC Il 2 era uscito anche per PC Non mi ricordo se l'1 Ma il 2 era uscito su PC E come si giocava Giocavamo con In 4 In 4 Con 2 controller E 2 che si dividevano La tastiera Tasti un po' Da una parte Un po' dall'altra Sulla tastiera Si riusciva A giocare E quindi si potevamo giocare In 4 Storia meravigliosa Sì Fantastico Veramente fantastico E Va bene Ok Quindi Come si chiama sto gioco? Neo Sprint Esatto Poi a breve Vi parlerò di nuovo Di New Star GP Perché Serino Ha cominciato a parlarne Benissimo Che è un'altra roba Super figa Io avevo provato Early Access Ho detto Vabbè Carino Però pare si è andato molto Perché se guardo I 3 da adesso Sembra fighissimo Se lo metti È figo E ve ne parlo Fantastico Anteprima Ottimo Nel prossimo episodio Di Indepito Io ho arascio Nel prossimo episodio Di Video Show Secondo me parleremo Anche di Neo Sprint Early Access Esiste O deve arrivare ancora? Non ne ho la più pallida Ho visto una notizia Su Multiplayer Mentre stavo qui a parlare Non avevo mai vista Un annuncio Questo penso È solo l'annuncio Però Neo Sprint Allora sto guardando Neo Sprint Su Steam Giornalismo d'inchiesta Non ha data 2024 Non ha data 2024 Però lo metto Lista dei desideri Vai Va bene Va bene Va bene Allora Signore e signori Ci vediamo stasera Alle 21 e 30 Domani Non ci sono live Perché domani Sarò in viaggio Il Buongiorno Laggato Torna venerdì Da Aversa Venerdì Dopo pranzo Buongiorno Laggato Domani Niente Stasera Infatti Lag Che doveva essere domani Viene anticipato A stasera Alle 21 e 30 Quindi stasera Alle 21 e 30 E poi venerdì Dopo pranzo Invece il prossimo Dovito Vivara Show Sarà Un Double Aversa Show Vito Giusto? Ah Mercoledì Prossimo Il Double Aversa Show E Gigor A sorpresa In qualunque momento Da un momento All'altro Faci il ride Esattamente Esattamente Va bene Grazie Carabie Buonasera Grazie a tutti Caraibi 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 Caraibi